boys mi sentite? mi sentite? ci siete? eh? ciao? ci siete? ciao? ciao devo togliere un'amicizia perché mi invitano a caso ciao ragazzi prima di iniziare io ve lo ricordo codice creatore gg yt tutto grande tutto attaccato ragazzi ma buon pomeriggio ciao buon pomeriggio boys oggi siamo col buon rasco che si è mutato che anche lui sta facendo la sua intro tattica le altre cose lì lo so lo so lo so va bene dai su non ti preoccupare non ci scagliamo non ho fatto niente di che non mi sembra che ha fatto niente di che ci ha detto qualcosa? no no era già bloccato il bot eeeh detto questo ragazzi oggi ci andremo a giocare questo bel torneo che tra l'altro sta per iniziare tra l'altro mi sa che io ho definitivamente rotto la sedia perché fa fa un rumore che non dovrebbe fare ah si si è scordato una t dove oh? parecipo parecipo? ragazzi io parecipo partecipo tra l'altro parecipo che vuol dire? perché non me lo dava come errore vuol dire che esiste come parola ma in realtà per ah quindi era buono in realtà ragazzi cercando su google parecipo esce la mia live perché ormai l'avevo indicizzato perfetto proprio e dicevo no non uso le cuffie della play 5 perché per farci un video va bene però ci faccio la panna con quelle cose io non so non sono proprio abituato a usare le cuffie eeeh no lui neanche con quello lì neanche con quello leggendario nel senso che comunque sarebbe aprire un vantaggio del genere a tutti potenzialmente cioè poi a quel punto tutti mi potrebbero aggiungere anche sul principale facendo l'abbonamento leggendario ribadisco sempre una cosa che converrebbe anche a me però cioè ci sono delle cose su cui ho deciso di mettere dei paletti e li mantengo capito comunque grazie ancora ludu ogni volta che fai delle domande doni io non so più che dire un bacione grazie luca grazie mille però ecco mi dispiace però su alcune cose ho messo i paletti anche su voi magari abbonati più storici magari sai cosa posso fare però è una cosa che si può fare più in là magari quelli che raggiungono 8 mesi di abbonamento allora passano dal secondo account al primo però senza dover pagare di più deve essere più una cosa su fiducia non che non mi fidi di te luca ovviamente sia chiaro ci mancherebbe altro però è sempre una questione che aprire un paletto anche se abbastanza alto perché l'abbonamento leggendario non è cosa da poco conto però sarebbe una cosa da aprire a tutti invece già dovete essere abbonato per esempio per 6 mesi prima cosa mi è venuta in mente poi uno la può studiare anche un po' a tavolino già diventa diverso perché a quel punto diventa proprio fiducia non diventa più un pagare ovviamente però se fanno i monelli vengono rimossi chiaramente se fanno i monelli vengono rimossi allora in realtà qui è partito tutto però il signor rasco non si è ancora smutato no luigi il codice creatore è gg yt tutto grande tutto attaccato mi raccomando ragazzuali non vi sbagliate anzi ve lo metto esatto come messaggio fissato ah luca poi vuole vedere lo shop allora me l'ha fissato che cosa ci dice allora arrivo signor rasco arrivo luca grazie ancora per il supporto un bacione il torneo ma sei capito come funziona sto torneo signor rasco no guardi infatti ti ho ti ho nominato l'esperto perché ho detto andiamo a sentire il gg se non ti ha capito come come si giocherà e invece no rimaniamo nell'ombra si rimaniamo nell'ombra in realtà però io un minimo dovrei aver capito cioè dovrebbe essere una battaglia reale ma coi poteri coi poteri con soli poteri non lo so io la butto lì bellissimo in peccolo lu materiali risottili ciao sere scusa se è prima che ti ho salutato ciao ti ho sentito prima eh no ero zitto prima in realtà ok allora oggi qui è già già pronta io infatti ho startato guarda ah è startato ah mi chiede vuoi davvero guadagnare un milione di dollari io ho fatto conferma non lo so poi io ho messo la firma ho firmato il monitor vado a mettere accetta ok perfetto è un'arena normale però com'è un'arena normale? dai speriamo di no comunque c'è no questa modalità battaglia reale con i superpoteri è divertentissimo è fighissimo ma secondo me dovrebbero fare cioè se se questo torneo non è così dovrebbero farlo secondo me ma anche proprio come modalità fissa secondo me sarebbe proprio divertente beh sì ma hanno fatto una cosa del genere però con il respawn e tutto quanto sotto forma di torneo sarebbe ancora perché poi ti concentri insomma c'è sta live diverso sì 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 quel messaggio sembrava tipo quei pop up scam che ti compai esatto con un milione di euro infatti hai vinto un iphone pro 56x max è vero su youtube come fai a vedere quanto sei cioè loro come fanno a vedere da quanto sono abbonati mi sono abbonati devi andare sul vedi un po' comunque grazie su scopri i vantaggi dovrebbe essere ah su scopri i vantaggi e poi ti dà tipo il tempo come funziona si ti dà i mesi o l'anno o l'anno i mesi ok ok comunque io vedo delle armi normali signor rascomi sai c'hanno ragione e qui in chat no ma allora è una renella una renella no me l'ho fomentato tantissimo rif e vabbè dai tecnica gigi a questo punto eh tecnica gigi sì però allora a questo punto dopo tocca cambia la skin perché sicuro tu giochi bene io con venom no però caspita hai visto il nuovo basso eh ma ti giuro ma lo sai che vuol dire mi triggera da morire perché tre anni con un pallone e poi mo mi fai stare c'è ma che vuol dire dai è vero tre anni col pallone e adesso hanno messo il nostro fortiglia sì adesso hanno messo il nostro praticamente cioè no a me mi triggera da morire hanno fatto diventare tipo un basso di rocket league beh bravo esatto è vero ma tu ci giochi a rocket league ci ho giocato un po' quando era diventato perché allora io mi ci chiudevo tipo gli anni delle medie io gli anni delle medie passavo i pomeriggio ogni tanto con un mio amico veniva qua a casa e giocavamo eh poi ho lasciato stare l'ho un po' ripreso con il fatto era diventato gioco epic ma poi sì anch'io 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 ho fatto una serie di video poi basso ma io ci giocherei con Sida perché comunque è divertente da giocare insieme agli amici perché da solo G ma vengono tutti tutti qui settimila player qui no magari stanno per pantano però eh sì sì vanno tutti a pantano però ce ne stanno davvero tanti mai visti oh no infatti ne vedo uno pure qui mannaggia la miseria eh sì 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 uno eccolo là altro bingo sì sì visto visto bella Luca grazie ancora no torna torna è incerto è incerto si è presa un'arma qua eh infatti mi sta mi ha già distrutto mi ha già distrutto ok ok tranquillo tranquillo se prendo un bel R no classico pump va bene gli taglio la strada vado qui a lootare qui almeno lui non dovrebbe lootare nulla ok però è da solo eh eh lo so che è da solo però io sono rimasto 78 video ho trovato un pompa blu speriamo che non è più forte del mondo arriva allora non ho idea di dove sia ok neanche io sinceramente ciao Maria benvenuta tra gli abbonati un bacione grazie del cuore per il supporto ok ho trovato un c'è spuglio tattico non lo so non penso però si sia messo in un c'è spuglio perché a me appena ha preso l'arma mi ha pushato l'infamotto sì sì ho visto abbiamo preso un punto buono buono onesto ci sta ci sta ci sta era il punto che ci serviva per darci quella quella grinta in più esatto esatto io me lo aspetto non so se c'è spuglio però dopo quel messaggio all'inizio vince un milione cioè fanno di tutto ah no 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 è lì è lì è lì è lì official almeno che non sono altri braggio arrivo aspetta qua ci sono dei mini shield ce n'ho uno per te eh qui sono i cosi della slarp ok bello off matti grazie mille top luca un bacione grazie anche per l'upgrade caro bella luca ah eccoli provo no in realtà non provo magari li attiro stanno lì comunque ok no no facciamoci questi qui che almeno ci da un pochettino in più aspetta arrivo ah oddio lol se uno lo vedo è quello che volevi cecchinare sto saltando ma com'è il piccone di venom alla fine è così è tipo integrato è come tipo un prolunghino nel braccio però niente di che alla fine no no è figo a me piace tipo un'ascia che paura qua c'è un pompa verde se ti serve e io ti direi vuole in odio tu stai andando ah ok ok stai andando io perché farei il giro tipo per non lo so neanche se fosse così torneo se no mannaggia la miseria chi cavolo se lo metteva venom sai mobile dare con sta skin ma infatti è difficilissimo giocare con venom a parte perché è enorme e poi ti vedi ovunque esatto gigantesco ma quella è una roba se era superpoteri era la skin più adatta era top ma infatti io per quello con la speranza di quello l'ho messa io non sia nemmeno mi sono riscaldi cioè non ho fatto nemmeno questo è il primo il secondo game perché stamattina avevo registrato ho fatto una partita e proprio il primo game ufficiale del pomeriggio questo considera io vengo da un cast di tre ore e mezza di brawl stars ok ottimo a 200 massimo di ma ma abbiamo i superpoteri nella chest è uscito black panther c'è il titolo del mondo ecco perché allora ok allora ci stanno dai potrebbe essere carino potrebbe essere carino bella simon grazie mille grazie mille simon io non so lì da te però qui da me stanno a fare proprio i tirchi con i mi piace ah 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 questo è vero questo è vero quarta volta ho questi pollici in su everywhere occhio perché qui potremmo anche farci il succo di pantano questo qui che ci dà pure lo shield non sarebbe male ma sai qual è il mio problema è che io sto con un pompa blu e un cecchino viola e uno dice oh ma allora stai da dio no perché poi c'è la pistoletta verde ok quindi manca l'assalto non so se vogliamo andarlo da pure laggiù e mi sa lì non ci siamo andati no più che altro no lì c'erano proprio quelli che che ci volevano pushare ah ok perfetto io sto andando qui per far ah c'è gente c'è gente qui a pantano ma lasciamolo in pace sì io mi nascondo neanche apro la chest eh qui una bella piccola una bella cecchinata questa ma non parte purtroppo eh guarda come sta tempesta buono buono e tutti i superpoteri possiamo trovare l'uomo in eccesso sì tempesta di cliente dovrebbe salvarmi anche tipo dagli spari sì io il pump cioè delle armi me le porterei dietro in eterno tipo la R e il pump me le porterei dietro poi possiamo fare tutti i superpoteri Maria comunque ti ha detto che è maschio e si chiama Natale ah Natale ok va bene perfetto Natale ok che quando poi ovviamente c'è degli accanto dei vostri genitori fratelli o sorelle è un macello sì è vero melissa rossi poi si chiama Mario esatto esatto ok c'è anche un'altra superpotere qua è vero ma io poi non me lo prendo sinceramente no a me non mi riesco a Black Panther cioè rega lo so che trigger un po' tutti però pure se c'ho Venom il potere Venom non me lo prendo qui c'è la R duo ah ok top perfetto occhio perché dobbiamo davvero giocare bene con i materiali perché solamente 200 su tutti e tre poi credo vediamo se hai anche mattoni penso proprio di sì 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 tutti e tre solamente 200 eh sta cosa dei materiali è un po' particolare eh sta materiali è buona però eh magari per quei tra gli ardini eh esatto qui c'è Groot Groot è ottimo Groot è fantastico Groot è fantastico infatti lo ho preso subito vai vai hai fatto bene eh no più che altro la safe stavo guardando come? non è così vicino alla safe ok quindi ci sono tutti i superpoteri potremmo trovare anche silver a sto punto sì in basso non sarebbe male eh eh no silver no silver no silver te lo metti sugli alberi e chi ti trova più esatto e lì sarebbe top la skin tutta verde eh sì è vero è vero uh top 25 un altro punto pulito pulito dopo andiamo a vedere il punteggio perché sinceramente non me lo ricordo eh ok sì io mi ricordo che era tipo un botto di punti a kill vengono premiate un sacco le kill ah è vero che erano le kill eh sì infatti per quello dobbiamo stare attenti perché secondo me tutti i trai ardini stanno a pushar come i come i maledetti proprio sì 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 comunque io con Groot ti posso curare se lo trovai pure tu sarebbe top infatti dobbiamo aprire un po' di chest eh sì dobbiamo provare l'utà vediamo se riusciamo a trovare qualche cosina comunque sì ti confermo che sono 200 200 200 i materiali ok sì anche se è arrivato 200 200 200 comunque lo sai perché ho preso Venom perché quando si formerà la situazione tutti nei box con Venom prendiamo uno altro punto buono prendiamo uno quindi l'hai preso alla fine Venom glielo prende e tu gli spari col palpo una roba del genere sì ci sta è vero altro punto eh perché adesso si prende una manetta sì da 24 inizia un punto a volta lì c'è un player occhio uno si è dettavolato ah visto stanno lì cerchiamo di stare un po' più sulla sinistra ok ci hanno visto ci hanno visto loro faccio finta niente io pure eh loro non fanno finta no c'hanno Iron Man sì vabbè vattene 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 gli sparo gli sparo tu scappa scappa io ho growth quindi ti raggiungo subito ok cavolo devo venire in safe eh sì tanto allora calcola c'ho un medikit io ho growth sto venendo proprio con lui ok eccomi allora però col fatto che non ho mai giocato con tutti questi superpoteri bonus punto sì devo capire anche come sistemarli nell'inventario bonus altro punto mai visto tutti questi punti gente a sinistra gente a destra pare chissà quanti punti ci abbiamo ok perché sicuramente però vengono da lì eh sì due punti adesso per la ventesima allora calcola mi sa ok quelli là non sono andati avanti perché questi no guarda la safe guarda che brutta dobbiamo trovare dobbiamo trovare superpoteri andiamo anche nelle chest nelle casubole quelle piccole eh sì occhio che per di là ho visto due che si muovevano eh ok sì infatti l'ho visto lì mamma mia quanti punti oh eh sì perché tutti si push eh ma scommetti che già il primo game uno avrà tipo 300 punti oh lì un loot allucinante ok dove c'è il tuo superpotere di grout ok eh calcola c'è gente però sì c'è gente occhio c'è spugli perché sì sì qui svisce sono sicuro no ma tanto a me c'è i cespugli mi danno una mano ma avvisano se c'è qualcuno ah ok c'è anche il superpotere di di doom ma penso sia inutile quello magari magari per volare ho lasciato dietro il superpotere di Iron Man ma dove l'avete visto ragazzi potere di Iron Man eh sì dicono ok io mi prendo grutto e tolgo tempesta eh ok che magari col cecchino posso tirar fuori una qui ecco l'accolo quello lì di Iron Man sono quelli prima che hanno dietro stanno davanti sì occhio che perché mi sa che quelli che stavano qui non si sono spostati più di tanto eh ok vabbè andiamo dentro dentro qui e poi tanto utilizziamo Grotto per andare in safe ok aspetta però quello è fermo uh no siamo stati ragazzi ci stiamo avvicinando all'endgame lo lasciamo sto bel mi piace aspetta 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 una maria di superpoteri qui G Silvio e Stamper e l'altro non so che cos'è è Iron Man Iron Man non so che fare ma allora tanto non lo so perché comunque ci abbiamo Groot ma allora aspetta mi prendo questo va me tolgo silver te lo devi prende per forza la sopra c'è no aspetta 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 me prendo pure coso c'è Wolverine Wolverine e c'è anche silver mi prendo anche io silver vai guarda questo è una roba aspetta fammi vedere va allora ma un problema capi come la mette questi superpoteri però eh sì ma guarda lo sai che ce ne stanno altri pure qui vabbè perché lo sai che la maggior parte gioca senza superpoteri che sono i classici eh sì tra i giardini tra i giardini che giocano eh Iron Man no io io me so attenuto Groot silver surfer poi pompa più assalto e un medikit io ti dico che ho fatto doppio Groot così per non sapere leggere e scrivere ok ok raga comunque dicevo ci stiamo avvicinando all'endgame no non abbiamo superato neanche i 2000 like ma che è sta storia la vogliamo lasciare se mi piace o no eh ls go aspetta c'è un glitch allucinante se c'è shiulk eh c'è un glitch allucinante da fare con Iron Man considera andiamo voliamo voliamo da una parte dall'altra lol aspetta 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 il glitch del volo si fa con shiulk e il jetpack quindi se ci sono i jetpack lo dobbiamo fa solamente altrimenti c'è un altro glitch che si fa qui c'è una rimbalzella non so se ci potrà si può tornare utile vada a prende che si fa con come si chiama con shiulk e Iron Man però non è il volo ti fa spostare da una parte all'altra ma in maniera ultralapida comunque qua c'è un altro Groot però tanto non ci serve 3 Groot no mi sembra un po' eccessivi anche se in endgame io me lo prenderei in altro Groot eh no però mi sa che c'è si ricarica ecco lo shiulk c'è pure il shiulk aspetta non sono riuscito a prenderlo lol vabbè tanto se c'è Wolverine la recuperi la vita no? no ma per fare quella cosa che ti dicevo con Iron Man si no no dico che magari arriva la tempesta adesso la recuperi la vita ah si si ma ho tipo 3 Groot eh ho 2 Groot eh però non so se lo puoi usare sai perché tipo ne usi uno credo che l'altro si debba ricaricare mh si 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 è vero cavolo c'è ragione lama pulito eh ma tanto non so quanto ci servirà vediamo che c'è dentro bella erminio tv grazie mille ah ci stanno i poteri è sempre Groot allora facciamo una cosa io mi prendo stare in balzella vai i paracadutisti non sarebbero male eh eh no però cioè vedendo che tipo l'endgame non sarà un vero e proprio endgame non so quante escape ci servono capito cioè vedi siamo già in 15 e la safe gigantesca occhio a buildare perché finiamo subitissimo i materiali 100% finiamo subito si è vero ormai scambiano Rasco per Robby Rasco per Robby niente ormai si è diventato Robby Rasco no Robby 2.0 no bruttissimo dai buoni altri due punti c'è gente lì però si passiamo per di qua che è così G noi stiamo qui siamo proprio alla grande cioè non c'è nessuno qui si perché ce stanno dei team che stanno affaita lì altri che stanno risalendo da di qua e noi ce ne stiamo per di qua ok siamo proprio top salvo che non appare qualcuno dal nulla si si però se riusciamo a trovare il jetpack se c'è il jetpack facciamo quel glitch e ci rimaniamo in aria considera siamo immortali qui è Venom e airdrop sopra di noi a quanto inutile l'airdrop però ok vediamo un po' allora qui hanno fatto una mega stazione di servizio e stanno lì hanno appena buildato ok io sto cercando di aspettare le airdrop ok io faccio una cosa faccio una mini barriera tanto poi riprendo subito mazzo e rebuild di nuovo almeno stiamo qui in sezzo tranquilli ok ok ci sta 11 player occhio sarebbe figo aspetta voglio solo usare lo uso raga eh guarda che figo Venom con Venom ho usato considera ho visto una roba con Venom tu usi Venom e prendi magari un Rift in pratica oh aspetta sparano a te no no sparano qua davanti ok prendo l'airdrop che appena c'è oh ok top che ho trovato un altro silver è il pompa viola sparano di pompa ok stanno proprio dove all'elicottero solitamente qui all'industria di Stark oh mio dio megaraggio si c'hanno il megaraggio si si li vedo li vedo li vedo eh il megaraggio col cecchino sarebbe alla grande eh stanno proprio a sparare qualcuno muore qui sulla destra mi sono fatto pure la basetta tipo come te aspetta aspetta no ma andiamo in safe andiamo in safe qua sopra ah giusto la safe si è spostata rip non ci ho fatto caso vabbè uguale 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 le motte non è questa dici probabilmente ci stanno player eh si io provo a prenderla ai ground non so se c'è qualcuno qua su dici proviamo a salire si si perché se stiamo su stiamo alla grande ok non c'è nessuno sto proprio sul sul colle più alto del mondo mica chi è fatto a salire fino all'assù è con iron man ah ecco due player qua davanti a me uno li sta busciando gli ha busciato l'official visti visti non so se su quella montagnetta qua dietro c'è qualcuno dobbiamo stare attenti bella erminio grazie mille ma io sto sparando un po' per dargli fastidio perché così è vero pure il martello eh giustamente tutti possono scappare però aspetta 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 perché questo lo prendiamo è qua dentro 20 20 top tanto li finiscono i materiali eh sì però il problema è che mi laserano infatti c'ho pochissime munizioni eh sì vabbè ma come donna non l'ho capito lo sai col doppio monoraggio calcola 10 9 madonna se tutti e due hanno il monoraggio di cioè questi mi hanno busciato considera è certo perché c'erano tutte e due il monoraggio di iron man hai vinto se c'è il doppio monoraggio di iron man c'erano player davvero qua sopra che viscidi sì ma doppio raggio regà due volte è un presiero completamente coperto ma te l'hanno fatto anche quando stavi ritrammortito no dopo mi hanno finito i colpi di iron man mi sono provato a coprire ma evidentemente non ci sono riuscito ah ok best bug alla mia mitraglione non so se lo vedi no perfetto sembra che spara oddio top 5 è grande mamma mia fai peggio bugoni rasco guardate dobbiamo andare qua sotto ah è la miseria ma vabbè cioè cosa abbiamo visto ma che cavolo ha fatto questo ma cosa abbiamo visto questo ha utilizzato i super poteri nella vita reale però ma che comunque top 5 vediamo quanti punti abbiamo fatto 40 punti vediamo 40 punti mmm qualche killina secondo me la possiamo fare lo start magari migliore 20% solo considera malissimo eh mi sai tocca fare le kill rasco si se vogliamo avere un briciolo di speranza qualche kill bisogna farla oddio no regà presa male così aspetta che cambio venom perché se no qua finisce male e si 21% allora vediamo il primo il primo ha fatto una partita una vittoria ha fatto 42 kill il primo è polacco ma lo sai perché secondo me perché la gente con i super poteri pusha a manetta capito pusha 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 a manetta e con i super poteri ci riesce oh mio dio allucinante 37 di media vuol dire che hanno fatto 42 kill cioè hanno fatto proprio 42 kill una partita sola pazzesco vai io son pronto che so sempre 10 partite massimo mi sa si si eh ci dobbiamo inventare qualcosa si si visto visto Bart te l'avevo detto l'altra volta abbiamo visto proprio da rasco proprio da rasco l'avamo visto che il fatto di wolverine che sono tipo due batman ah pazzesca quella cosa che praticamente parte in live mi scrive mi dice stosa poi me la vado a vedere poi tipo dopo la live apro instagram ho visto quella tua storia e dico ah ecco si 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 stava pazzesco cioè ma quando lui sono rimasto malissimo perché è una vita che non l'ho mai visto esatto come se fosse un batman si si è come tipo quelle cose ti rovinano l'infanzia capito si che scopri che cioè surrealismo eh vabbè proviamo a fare qualche killina andiamo sempre qui a alla portiglia non lo so dimmi tu dai sceglite adesso eh il problema è fare dei kill uguale morire subito fare dei kill rimanere in vita e cioè non so perché sicuramente i player quelli che stanno fanno 42 kill a game vanno qui al lago eh si andranno a borgo a Stark Industries con questo spot vanno anche a dominio o a Stark noi possiamo scegliere magari una delle zone circostanti proviamo andati per le rovine col tiente c'era poca gente io direi no perché avvicino borgo e dove vogliamo provare Castello Corallino vai Castello Corallino che è uguale alla fortiglia però allora proverai più sabbie sudate se pure io pure io pure io sabbia sabbia sicuramente c'è la gente no comunque mi triggera troppo l'autobus senza la mongolfiera poi è strano pure sembra tipo è strano dalla nostra una sensazione sì sì no ma è proprio guardate giuro non lo sopporto ragazzi un like un F per la mongolfiera è vero poi la mongolfiera quanto siamo non è vero nessuno qui dato che non volete lasciare like per noi almeno lasciatelo per il per la mongolfiera sono due player allora io provo a prendere il suo fucile no mi supera lui mi supera lui si sta più basso lui rip tutte e due lì eh tutte e due lì G si ok sono entrato nella casa vicino alla loro però tanto adesso vengo a farmi gli affari miei potere del il pallone di dottor doom ok un po' inutile io ho trovato storm ancora più inutile stop eh ma io l'ho itati eh l'ho itati l'ho itati col potere di tumbo ah si perché li bruci è vero si 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 l'ho itati quello ok era bianco adesso è blu stai da solo considera G io ancora saluta si 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 no tanto li sto ita solo da lontano non ti preoccupa mi prendo sta R che è gustoso ok itato di nuovo che superpotere divertente vai io ho le esplescine come? ho le esplescine quelle per curarci ok ottime eh per lo step superpotere di ah black panther maledetto la cosa è che prima non me ne so nemmeno accorto se l'ho itati tutti tu uno solo a storm vabbè not bad oh è arrivata serena col mio caffè erasco non ce n'è più per nessuno cambia la musica cambia la musica qui allora la cosa che cambierebbe davvero una musica è il superpotere di iron man quello quello vero però sono qua vicino dove sono? lì niente non l'ho itato mannaggia è una miseria no t'hanno pushato? arriva stai eh ci metto tipo 30 minuti arriva tranquillo tranquillo sono scappato sono scappato fatti le sprechettine fattele 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 si 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 fatte io faccio una cosa mi faccio lo shieldone ti porti il medikit ok c'ho dei mini shield ok fatti tutto fatti tutto fantastico perché mi sa che ti potrei restare vero si ci sta la cosa da restare si si ok ti porto lo shieldone anzi te lo tiro c'è il medikit arrivo ma come ma che c'è ma chi spara? sono arrivati i colpi fino a qui non l'ho capito non l'ho capito ma io tra poco dopo di questi bevo il caffè non ce n'è più per nessuno ok top non ho idea di dove sono il caffè è tipo il mio superpotere ah si? in real life? non sto scherzando in realtà ho iniziato a berlo da poco cioè no il caffè l'ho sempre bevuto però non è tipo che dopo pranzo ogni volta lo bevevo quando c'era quando mandava tipo una volta ogni morto depava ok invece tipo abbiamo comprato a mia madre per il compleanno la macchinetta del caffè e tipo è diventato una droga perché ci metti 5 secondi a farlo ed è veramente buono sì con la macchinetta del caffè anche perché non hai lo sbattimento di cioè lo sbattimento il minimo sbattimento comunque di di fatto il caffè esatto la cialda e tac è fatto esatto là sopra c'è un superpotere ma questi due dove diavolo sono andati? non lo so ma hanno sparato due o tre volte senza fassere e poi sono riscappati hanno preso il superpotere dell'invisibilità allora io considero sto full di tutti i materiali tranne mattoni e io pure quei mattoni sto messo male ho sto superpotere il black panther che ancora non ho capito cioè come mi può tornare utile perché abbassa la percentuale del danno che subisci e poi fa una sorta di onda d'urto che fa danno agli avversari sì però è è minima tutta la cosa quindi sì sì alla fine non è che ok c'è uno scildone qua dentro fattolo tutto lo pingo top hanno tolto però i veicoli mi sa su sta modalità R e sparano oh ti sparano G? a te? no no sparano qua dietro ah sì è vero eccoli eccoli stanno lì dentro che li vedo? eh sono loro sono loro sono quei due stanno a sparare quarti sparamoglie 20 20 20 Ironman mi avvicino un po' considerate dobbiamo andare anche in safe dopo eh uh ho preso bene la mira eh sì sta de là la safe top continuo a fare i materiali quando sono full da due ore 10 not bad sono qua sotto sono qua dentro ah sì aspetta pallone di Doom ok sono di qua sono qua fuori se c'è un altro pallone appena ce l'hai questo che è? è Black Panther sempre aspetta provo ad avvicinarmi a fare il potere di tempesta ok non ha fatto niente qui se c'hai aspetta bravo credo siano sotto però loro eh eh sì però sotto no è sotto pure fu sotto infuocato vediamo lo stanno è qui dentro mi segno i passi occhio G si arriva pure la tempesta eh sì andiamo noi intanto andiamo tanto loro devono venire per forza dove andiamo noi vabbè andiamo che cavolo questi due ma che c'hanno no ok amma mia comunque tempesta e cosa allo start sono orribili eh sì concordo era figa se mettevano solo superpoteri sarebbe stato divertente sì mamma mia sarebbe stato troppo figo era quasi troppo bello per sembrare Martellone di Thor buono buono che questo è ottimo buono che questo è ottimo buono ho preso diamo sempre uno sguardo dietro che mi sa che arrivano eh sì anche il che per forza eh sì eccoli eccoli vedi 20 Ironman macca miseria mi hanno devastato 25 23 non so chi eh io sto finendo i i colpi della R uh hanno il martellone pure loro non so se hai visto oh mio dio che brutta situazione Ironman qui ci aggancia eh eh sì eh pure quello con l'assalto ci aggancia mannaggia a lui ci sono tipo un morto che cammina madonna quando si guarda dietro non si vede più niente ma stanno sopra la montagna aia ok ma da dove abbiamo pure gente davanti eh niente ma affatto c'è ancora tutto lo shield rip ok grande no ma ho sparato prima io rip rotti maledetto maledetta calciatrice rossa c'è niente da fa chi c'è Ironman vince eh ma Ironman è nettamente più forte questi hanno tratto questi hanno trattato Ironman e ci hanno rotto sia per il moving sia per l'attacco per il fastidio che dà eh sì 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 porca miseria bella Kevin grazie del supporto un bacione grazie di cuore Kevin no no raga da pc da pc vediamo un po' come vogliamo fa perché cioè come abbiamo giocato prima 40 punti ci riportiamo a casa non sicuro però però sì cioè con tutti i movement che trovi sì eh non lo so magari non è bastato cioè visto eravamo top 20% addirittura guarda che è tanto io calcolo in sti tornei non me ce ne sono mai ritrovato top 20% cioè mai ma neanche se giocavo tipo a caso quindi le kill sono troppo importanti evidentemente quindi non so come dobbiamo lendarci perché o scendiamo come prima lendiamo ludiamo al volo e iniziamo a giocare aggressive oppure scendiamo in zone calde però cioè non so se è meglio far 40 punti o rischiare dei fan 5 come sto caso eh quello infatti il discorso non lo so bella Kevin grazie grazie mille Kevin mi saluto prima a te e poi è passato a me grazie mille per le donation un po' ovunque non lo so direi o tipo una via de mezzo come abbiamo fatto adesso cioè secondo me come abbiamo fatto adesso era top ci siamo fatti il nostro loot magari sto fight lo vincevamo ok però non lo so cioè magari tipo in un taglio del genere andrei o verso brughiere o verso siepi verso brughiere brughiere qui sì 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 oppure oppure di nuovo sabbia che è un po' disperso siepi non è male se vi sicuramente ci sia le gente dimmi tu allora facciamo sabbia o siepi facciamo sabbia siepi 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 che è lo spot preferito di entrambi dai vai a posto grazie grazie mille Kevin grazie mille ancora vediamo se riusciamo a fare sti in piccio ho ancora la lava sì ho la lava perché sto facendo bruciare poison ivy stai a far bruciare poison davvero? eh sì ho messo la lava mattietto c'hai ragione solo 3000 like solo 3000 like mattietto allucinante oggi proprio tirchi oggi come scia come scia sì sì come scia Kevin grazie ancora c'è gente? sì 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 c'è ancora c'è gente io vado qui allora loro sono atterrati lì ok tutte e due? no uno accanto però comunque lì vicino e niente tempesta ormai sono abbonato al potere di tempesta invece c'è un superpotere eh ma è sempre lui è sempre il black li mettono se dove lo fanno apposta eh sì lo fanno li fanno trovare ovunque classic classic allora eh eh G qui bisogna giovarcela bene perché è sempre quell'uno contro uno che dobbiamo superare stavolta sì bello shulk top io te la do Groot Groot è ottimo passi 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 stanno proprio qui me sa eh sì stanno qua dietro hanno usato anche un potere non ho capito perché e capi qual'era se vede quello lì di le panter ma co ma da oh non mi ha fatto tempesta me l'ha fatto un quarto d'ora dopo ok un atterrato grutto 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 mamma mia l'ho usato giusto in tempo è rimasto un 5 di vita eh ma mo lo ripuscio quello lì l'avevi un po' hittato no per niente io aspetta aspetta cambio posizione anzi mi mangio sta verdurina maggia ah è vero qui non siamo su un oh cavolo che è no perché ero ormai abito a giocare a knockout marvel stavo saltando due volte e invece il dr salta solamente una volta shiuk cosa hai messa mi stai una ripuscia no mi stai usare quello di coso quello di black panther ok un atterrato questo c'è lo scudo no è one shot one shot one shot ok madonna let's go let's go era one shot da mezz'ora non riuscivo a finirlo oh my god oh mio dio eh vedi qua già la musica cambia 12 punti con solo ste due kill capito abbiamo fatto 12 punti eh si se non di più non lo so ma non so quanto eravamo però guarda stiamo già a 56 questa partita l'abbiamo iniziata eravamo a 45 eh ok si una cosa del genere c'hai capito eh ok allora cattivi dai cattivi per forza anche perché no vabbè la safe è qua vicina però si se vogliamo fare punti se vogliamo fare punti dobbiamo far solamente kill cioè tipo il top sarebbe fare farsi due team a partita e arrivare come l'altra volta così invece di 40 fammo tipo 70 80 punti a partita e diventa già un po' più un po' più un po' più comunque sai che sto iniziando a pensare che tocca prendere solo i superpoteri quando si trovano nooo solo superpoteri se incontri qualcuno con una R e ci sa giocare e ti distrugge si però allora cioè nel senso tipo come armite porti solo giusto il pompa e l'assalto e per il resto solo superpoteri si si come ho fatto prima per forza paolino grazie dell'abbonamento un bacione grazie per il cuore per il supporto almeno che non vogliamo portarci anche dietro qualche shieldino perché magari cioè la vita ce la ridanno sia wolverine sia shirk mi sembra è anche grotto vero eh si no gli shieldini ce ne servono gli shieldini servono poi c'è grotto allora ho trovato lo shield me lo faccio che sto senza bello questo il raggio il mano raggio di ironman top top fata grazie della donazione un bacione grazie di cuore per il supporto lo ha nell'inventario il potere di group vo lo vorrei farlo dare shieldini qua se riesce a portarteli si per forza riprendo sei sopra si si in suo ultimo piano e niente andiamo a vedere se riusciamo a inventarci qualche killetta eh non sarebbe male che tanto possiamo fare solo questo oddio ah ok sotto qui qualcuno è venuto a lootare ci sono delle scale ok a calcoli io c'ho solo due colpi pompa ecco lì ecco lì ecco lì arriva arriva aspetta 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 sono lontano io ok io li sto osservando uno non è per niente stava cercando di capire come si giocava a fortnite considera ok va bene beatrice grazie dell'abbonamento un bacione benvenuto tra gli abbonati grazie del supporto ok li seguo sono qui lui ha wolverine ha wolverine e non ha paura di utilizzarlo io se vuoi subito vai 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 non li trovo più non so dove sta uno sta a entrare qua nel cespuglio uno mi sa che è entrato qua nel cespuglio eh occhio eh eccolo infatti 31 fata grazie ancora 90 top comunque si concordo non è sveglissimo calcola io l'ho rittato eh ah sta scappando infatti ah ma ci sta pure l'amico qui porca la miseria ok 140 140 140 gli ho fatto il pompa del cavolo bianco se ce l'avessi avuto verde era morto aspetta comunque allucinante raga cioè ero con 150 di vita come ho fatto a togliere quello è one shotissimo no quell'altro allora arriva ma vaffan bene ok grandissimo ma che sfiga eh sta lì sta lì eh eh bravo prendi la kill va prendi la kill no salta mannaggia la tante bianche 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 te lo fai grande signor rasco grandissimo bella l'aiuto grazie grazie mille vengo subito a prendere la scada oh mio dio che era il secondo o il terzo mese Beatrice come ti chiamavi però veramente non era quello il tuo vero nome allora guarda questi che c'è uno scar eh sì ce lo prendiamo ma a me comunque col potere di Hulk mi ha tolto 150 in due secondi cioè tipo io ho fatto 140 col pompa prima che lui mi i tassi e io prima di riuscire a dittarlo mi aveva finito G faccia una cosa di resto qui perché è la parte più safe del mondo tanto poi così per poteri sì riscappiamo bella grazie mille Alex mannaggia regalo speriamo che non togli tanto sta safe e toglie sempre uno come al solito dovrebbe togliere sì 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 si toglie uno my god grande signor rasco ok perfetto andiamo 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 ma lo sai che io entro in crisi perché non so abito ho giocato tre superpoteri nello slot eh lo so ci sta un po' di tutto e quindi switch o armi faccio proprio i peggio in pc ok qui certa robetta e a me serve per forza uno scildone mi spero ma te sì eh uso grut io vai vai usa l'usalo maledizione oh so cattivissimi eh sì sì questi sono bravi questi sono bravi molto molto bravi provo a farmi il medit ma mi sa che è inutile orca la miseria niente questi sono dei fenomeni riesce a scappare qui dobbiamo no dobbiamo proprio fare una mega fuga ci provo ci sto provando ma oddio mezzo e mezzo sono scappato io vado da tutt'altra parte almeno chissà seguono a me qui sono proprio bravi eh eh sì io riutilizzo grut madonna regà però manco a far così o stavamo fuori safe l'altra safe era lontanissima che cavolo ti pusci qui oh c'hanno il cecchino con sidra no ma stanno anche proprio a volare mi stanno a push a me l'ho visto un abbastanza dietro a me oddio cassa speciale però la apro se trovo qualche cura non è male oh mio dio a me mi hanno fatto tutto lo shield eh eh io pure io pure non c'ho più shield lo sto a mettere adesso perché l'ho trovato eh cerchiamo di non fare un percorso lineare perché sicuramente loro seguono il percorso no cioè cerchiamo di seguire il percorso nostro grazie mille Beatrice grazie grazie mille t'hanno pushato mi hanno distrutto non è mi hanno pushato oh no guarda riguarda niente so cattivi no io sono morto non si tre sono morto che cammina oh mio dio c'ho paura oh mariana cecchinata madonna di uso Groot oddio lì c'è un potere oddio che potere che cacchio potere che cacchio potere ah silver si ovvio 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 buono silver me ne scappo proprio madonna quelli ci hanno proprio puntato si si non so se erano loro eh ma era qualcuno di cattivo qualcuno mi ha terrato qua davanti no però non so se sono loro no ok ok no no li stanno andando a fare l'airdrop ci dobbiamo trovare un posto sono a farà si ma non a noi qui 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 è safe secondo me sto dentro non c'è spuglio si va bene nella safe ma dobbiamo sciagalla qualche kill eh lo so però do la sciagallamo c'è uno shield vieni 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 arrivo arrivo apre una chest spazzatura si arriva eh niente c'ho ancora solo 5 colpi del pompa è il pompa più forte del mondo però territorio territorio c'è una 45 top qua c'è un altro Groot se ti interessa c'è un player qua davanti ok veniti a fare il coso se riesci dove era era sopra ok si si qua sopra ok speriamo non mi cecchino no no tu quindi avevi colpi del pompa ah si ti rilascio bravo mi hai ricordato thank you so much allora g potrebbero venire dall'assimile eccolo infatti un player sono loro sono loro io calcolo da lontano non ho nulla ho solo escape e pompa e Hulk uno l'ho distrutto io ho dato 327 vogliamo provare e no perché c'è gente anche sulla destra c'è quello che ti dicevo prima ok rip quindi aspettiamo un attimo prova a hittarlo col potere di Iron Man prova a spammarglielo hittato 89 ok top ma almeno li spaventiamo 70 o dietro perché stanno qua dietro gli altri ah ok ok no ho capito verso destra io stavo tranquillo no 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 qui dentro al dominio io stavo guarda guarda ma c'è prova io lo sai che ho paura a farlo il potere di Iron Man perché col cecchino mi buttano giù sì perché stai fermo infatti sta fuori sta con la testina fuori allora possiamo fare pure un impiccio loro tanto crederanno noi stiamo sempre qui mentre noi ce ne andiamo in safe per di qua giriamo quindi faccio una build così per non fargli capi niente io calcolo già sto fuori dietro tu vattene tu vattene tanto loro hanno boccato facciamo così io ti raggiungo tanto loro stanno a spararla dietro noi invece ce ne andiamo arrivederci amici miei c'è silver c'è un altro silver per te qui sì sì lo prendo assolutamente ok loro pure se ne sono andati messa sempre con silver hanno usato un silver che lascio però eh non lo so io ho shiulk grut silver due medikit e il pompa lascio grut considera ok due medikit che c'è con due medikit che ne so ce l'avevo lì non ho trovato nessun potere buono e nessun arma buona sono rimasto col medikit ok va bene va bene va bene mister troll domanda molto interessante bella mister troll grazie della donazione cosa faresti con un milione di euro tu cosa faresti signor rasco occhio 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 g qui oia mo dopo ti rispondiamo mister troll questo c'è nel cecco allora se ci sei ma sono sempre loro se ci sei io direi di prendere questa questa frattura qui eh uno killato g come killato 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 official questo è da solo eh allora aspetta aspetta lo stanno a pusere dietro bianco me l'hanno killato eh ce l'hanno rubato ce l'hanno rubato da dietro calcola lo sto pushando ma sono tornato se vieni qui non è male arrivo arrivo vieni vieni che c'è la frattura si si la prendo la prendo la prendo no ci sta pushando con silver oddio che cose ah no ci sei vada 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 allora aspetta facciamoci le splaccine no ci aspetta 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 questo qui è one hit cioè è one hit cioè lo possiamo ahia ma non sparare è da sopra no ripperotti 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 vattene 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 considera da solo questo qui ci sta a pusciare eh lo so perché il compagno si era messo sopra capito per quello dicevo che era meglio andarsi ah non avevo capito che era andato su c'era il compagno sopra e lui lì sotto solo che ho trovato le splaccine ho perso tempo a dirti delle splaccine eh si vabbè si vabbè arriva il più lontano possibile credo in te cavallo pazzo gg ci si prova comunque mister troll non lo so con un milione di euro cosa tante cose ma una parte magari anche tipo in beneficenza sicuramente no con un milione di euro si compra una si fa la torre eiffel gigante di di nutella la prima torre falla al mondo gigante nutella si crea non è male per entrare nel guinness nel librone di guinness si occhio siamo 13 eh 13 abbiamo fatto una marea di punti g 105 eh perché abbiamo fatto 4 kill ma sempre comunque si chiude la safe non ho capito ti 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 si te devi fare pure un po' eh infatti si si infatti lo stavo a fare a posto però lo lascio con 50 di vita si 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 bello 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 siamo alla terza partita si terza io a sto punto vado di positioning signor rasco cioè provo tipo a prendere la top 2 top 3 quello che sia se riesci a sciagallare pure qualche colpino tanto tu puoi hai tutti escape eh cioè shulk poi groot e poi silver quindi magari qualche colpicino dallo se riesci eh il problema è che c'ho il pompa capito da lontano non riesco a sciagallare oh cavolo mica la voice eh quello il problema chi è qua te la do l'assalto cioè si l'assalto solo la mitraglietta oh oh occhio eh si me ne vado di qua infatti ok top 6 non è male la top 6 bella robbie buonasera top 5 potresti prendere pure l'aig qua su eh si no lo sai quel è il problema è che ho visto un team nascondersi qua sopra ah ok non trovo piano uuuuh uuuuh il mega ragione di ironman fa questi effetti eh si bella simone uuuuh raga mi dovete lasciare like un like e una copertura per gg è vero è vero eh vedi qua c'erano i build ok considera se hai qualcosa da lungo raggio non era male perché stanno proprio qua sotto loro eh vedi eh vattene in safe i giranti stanno affreduti qui devi andare a sinistra state ne bello tranquillo in safe da qualche parte cerco di rimanere pure in aria se posso oddio no tanto sto già giù no magari ecco qui qui è ottimo qui è ottimo ah quelli eh guarda se c'era un cecchino no occhio oggi c'era uno a sinistra e vai 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 sulla destra c'è il raggio laser di ironman qua su dici l'hai visto si si è quello di triangolare se non è quello di tor eh però potrebbe essere anche venom a me ah no è vero mamma che brutto ho chiamato che te buscino dalla sinistra eh si di qua però aspetta ormai me lo voglio toglie il dubbio lenovo grazie della donazione grazie del supporto si comunque era quello di ah no un altro silver questo che roba ma a sto punto leva il medikit ma ho preso il mini shield aspetta no ma stai scherzando ma che bravo vattene vattene ma stai scherzando no no grazie non compro niente se ti capita prendi l'assalto eh si eh guarda quello eh ma visto let's go raggio raggio ci stanno i quanti di ironman no però mi sei meglio ok mi tolgo questo 90 ok la safe è dietro di te eh si no no davanti davanti ah è davanti a te vabbè tanto con silver vai dove pare si però cerco di non usarlo subito no no vai oh bravo vattere 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 ma io mi ero preso no 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 oh mio dio no ma 30 gli ho tolto si bravo mi sta tremando il dito mi sta tremando il dito adesso adesso il potere di ironman se vuoi volare giusto meno male c'era no 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 100 ok oh no 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 grotto 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 appoggiati da qualche parte monella chi è qui No, 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 no Scherzavo Ciao No Top 2 No, 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 no No, l'ho lisciato Rip Oddio Mi sentivo male se ce la facevi Oh mio Dio Bella Giovanni, grazie del supporto Un bacione Considera troppo convinto che ce la facevi Ero troppo convinto Quando hai tirato fuori La vocina ho detto questa è finta Ah, dici la vocina No, allora, c'hai presente quando ho ucciso L'Iron Man? Sì Avevo il pollice dopo che stavo lutando Che tipo tremarello Stavo tipo così sul pad Stavo tipo così Madonna Il pollice tremarello Sì, troppo, troppo Madonna Cioè, vediamo Vediamo Vabbè, un game l'abbiamo buttato L'abbiamo fatto solamente 4 punti Eh, vedi, già top 12% però, vedi? Eh, già è un'altra cosa, eh Sì Top È pur vero che passano solamente i primi 300, no? Eh, sì Pochissimi De questo pochissimi Perché Poi se giocano sì Tipo dopo Dalle 19 alle 22 Mi pare Poi La versione finale Sì, sì, sì Ciao Beatrice Comunque porca miseria Volevo iniziare Tipo a buildare Eccetera Però visto che non c'ho più i materiali Capito? Infatti per quello ho detto Tento il potere di Iron Man E poi provo a hittarlo mentre scende Hai fatto tutto quello che dovevi fare E hai fatto anche benissimo L'ultimo L'ultimo assalto Questo per il potere di Iron Man Però purtroppo non l'hai preso Eh, sì Se lo prendevi Era un altro Era un altro finale Sì, perché Magari facevo quella scala all'ultimo Provavo a hittarlo col pompa Era andata Eh, sì Peccato Ma più che per la vittoria Per la kill Guarda Perché a me sembra che dà Sei punti come la vittoria reale La kill Sì, sì, sì Da sei punti Eh Allora Dove ce ne andiamo? Non lo so Che ne rifacciamo? Vediamo ripro la siepi? Adesso c'è più gente al 100% Eh, sì Adesso sì Non lo so Dimmi tu Anche se tanto ormai Cioè, è tipo fortuna Chi becca subito il superpotere forte Ok, va bene Allora andiamo a siepi Proviamo, proviamo Qui dire team ci sono sicuro, eh? Sì, sì, sì A forza C'è una navicella queen jet qui Ma è poterità? Non stanno ovunque Oddio Ah, sì Allora Se la vediamo brutta Possiamo andare anche davanti Dove è il negozio di dolciumi Promesa no Ci arriviamo prima noi C'è anche uno C'è anche uno qui con noi Stessa casa Lui è sotto Entrato sotto Sì, io ho preso una cassa Lui non ha visto Sto col pompa Provo a farmelo subito Dove è andato? Arrivo furio Mi sto facendo gli filini No Lui col pompa Ma chi lato? Ma chi lato? Ma chi lato? Ma che... Ma che culo? Atterrato Sì Prequisici No, 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 no Abbiamo sei punti Va bene, va bene Sei punti buoni Ah no, tu hai cinque punti La kill? Sì, perché ho visto A sinistra Sera più cinque Ok, ok Ah, tieni C'ho lo shieldino Magari, grazie Ok, te lato bende Top Ora sicuramente Viene il suo amico A prendere la card Sì Potremmo pure Ok, lo vedo È qua No, un altro team Sono due Ah, sono due, sì Io come al solito Non c'ho niente da lontano Eh, questi mi mettono paura, eh Sì E ce n'era un altro sulla destra, eh Mo' ho pingato male Però ce n'era uno sulla destra pure Non so nemmeno se ci conviene tipo Ma se tipo io gli faccio il giro Ok, 60 in headshot Lisciato Stai da solo? Stai da solo? Eh, sì, sì, sì Sto solo, solo, solo 72 Orca la miseria Bravissimo 22 dietro Ok, ok, ok Bravo G, bravo G Oddio Aspetta, aspetta Perché c'è un altro udizio Eh, resta il volo? Sì, sì, sì Te sto arrestato Te sto arrestato C'è l'amico di quel Il primo che abbiamo killato Non era con loro, eh No, no, no Eccolo, sento i passi Sento i passi Sono attenti Sta, sta dentro qui Eccolo lì No, ma la serato di brutto Arriva? Sì In aria Eh, ma no, sono due allora Ripassa Per saperlo scappavo Scappa, scappa Eh No, eh Ma non l'ho minimamente visto Ma quell'altro da dove è arrivato? Comunque non erano quelli che Ucciso all'inizio Era un altro team ancora Eravamo troppo fissati Che ce ne fosse solo uno Eh, io ero convinto Perché non ho visto nessun altro Ero straconvinto Fosse solamente quello Io pure Io pure ero convinto Al mille per mille Mannaggia Guarda, abbiamo partito Benissimo Mamma mia Nella partita arriviamo A 200 Minimo Eh Ma eh Porca miseria Allora Appena quello lì Mi ha laserato Mi sono messo sotto Poi mi sono rialzato Per Con il pompa E la mitraglietta Provando a A laserarlo A laserarlo Mi sono sentuto Mi sono sentuto Uno che mi volava le spalle E che mi ha distrutto in due Davvero Allora vorrei No, ok abbiamo startato Eh sì Volevo cambiare glider Volevo cambiare glider perché secondo me Questo non è il delta plano adatto Dici Quale c'hai? Però Luciano Come? Quale hai? Ho messo quello lì che abbiamo Che ci hanno dato oggi Quello lì del Nexus Ah ok Sì ho visto Ho sentuto Ho sentuto Bella Crystal Buongiorno Devo bere per vincere È vero? Infatti sto bevendo Regà Ma il caffè l'hai preso alla fine? Sì Infatti la partita di prima Era perché ho finito di prendere il caffè Ah è vero Eh ma qui allora a questo punto Si deve delegare Serena Che ti faccia Vai fai un altro caffè amore Una bottiglia di caffè Tipo un bottiglione Tipo c'hai presente Si vede la prima adesso eh Potremmo andare pure a Foschi Foschi Vai proviamo Foschi Foschi perché se si mette male Ci andiamo proprio con l'aria Sì 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 Però faccio l'americana nel termos Eh no qui lo stavo dicendo Tipo come nei film americani Che si fanno tipo tutti i termos Quando ci stanno le scene Dove devono lavorare di notte no? E tipo poi arriva sempre il terzo Quarto personaggio Che dice Ma quanto caffè vede bevuto questa notte? Ah non abbiamo dormito Non abbiamo chiuso occhio È vero Anche scogliere poteva essere invitante Però vabbè Andiamo a vedere Foschi che diceva Eh ormai sì Vediamo Foschi Sì sì esistono Per il caffè all'italiano Bella Cosimo È comunque proprio diverso il concetto Oh c'è gente? Oh my god Almeno altri due Sì sì è pieno di gente Perché sicuramente ultime città Allora anche loro fanno sto ragionamento E allora dovrebbero essere quelli un po' meno tra i giardini Ce li possiamo provare a fare Sì è vero Uno va lì Mi avvicino Io provo a prendermi sto pompa qui Io t'erro qui eh Sì anch'io sto anche con te Ok meno male top Sparano già Questo sta qui Perchè busciarlo? Sto un po' qua sono morto Dove sta? Qua? Ah ma tu alla fine sei allontanato Aspetta Occhio su due Bello neanche un colpo mi è entrato Orca la miseria Terra No l'ho lisciato Arriva? Sì ho visto ho sentito No Eh sì vabbè Ho volato Non volevo volare Va bene vabbè Anche se non me ne si va bene comunque eh No 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 Aspetta Eh perché vedi questo volevo evitare Mannaggia la miseria 22 Ok Bravo G Ah Ok C'è altra gente 100% eh Sì 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 Ah metto a posto l'inventario No mi sono sbagliato Ok No Ma dov'è Volaviamo Volaviamo Eh No mi sei incastrato No No L'ho visto Eh ma hai visto perché mi sono incastrato Per la pedana infame Lui mi ha distrutto la mia pedana e non sono riuscito a salire su quell'altra Ma che sfiga Eri col corpo sulla 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 piattaforma e con le gambe che che andava che giravano Esatto Ma porca miseria Porca miseria Bell'Elias Oddio Eh allora questa proviamocela a fare tranquilla Cioè tipo che andiamo proviamo a fare tipo una prima partita Però dobbiamo provare a lootare un po' di più e se troviamo i poteri quelli giusti proviamo a stilare qualche kill Ok sì Eh Ma dove potremmo dropparci perché potremmo anche andare sull'isoletta di Stark Su quelle case abbandonate dove Sì sì ho capito Non è male come idea Perché non so quanta gente ci può andare lì perché Soprattutto dopo abbiamo subito le Stark industry O altrimenti Harry Skriels Anche Non lo so Mi sa che già c'è più gente Ma a proposito hai visto sto timer? Ah sì fighissimo Fighissimo Solo che alla fine Tra l'altro io spero sia così ragazzi Non me ne vogliate ma spero che non sia sabato Sì sì mi hanno dato la conferma Ok meno male Se lo volevo dire prima non volevo interrompere ma hanno dato la conferma Meno male perché se no te l'avevo detto no che io se fosse stato sabato me lo perdevo Sì 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 È l'uno no? Sì l'uno Vabbè lì palese ci facciamo la live insieme Palese Martedì primo dicembre alle 22 ore italiane Sì 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 Lì palese Live tattica Sì 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 per forza Per forza assolutamente Allora dove andiamo? Allora secondo me a pantano ci viene tipo mezza lobby in questo momento Ok Quindi o proviamo tipo qui Ok Oppure proviamo moli Anche perché ormai è tardi per tutto il resto praticamente Beh andiamo a quello lì primo No l'avevi piccato Ok ok Perché sto curioso di vedere che c'è dentro la navicella Queenjet Cioè inutili Eh praticamente sì Giusto per Dato che i pro player piacciono sempre I fucili d'assalto quelli dei Stark Giusto per quelli magari no? Occhio perché se Vedi se riesci a vedere qualcuno Perché altrimenti io andrei qua Prima Oddio allora Calcola io sto bassissimo già eh Ah no 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 Atterrano tutti qua Oh mio Dio quanta gente G Eh ma tutti lì eh No c'è tantissima gente Tantissima Eh ma non qui da noi Di là Non lo so lo so Mi sto a portare Sì sì Ma si sono fermati tutti Tutti là sopra dove è pingata adesso Considera Mi sa proprio che sono andati tutti là sopra Lo sai? Erano altri C'è già morto qualcuno Eh sì ci ha dato già il punto Prima che discende Tralalalalalalalalaloo Ok 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 Oh mio Dio comunque Comunque ieri Eh O Come si dice O Sta O A I O U Stavo registrando no E pre-registrante sto a fare delle partite Con Serena e mi sento tipo tutta la sense Diversa c'è tipo un casino E mica ho capito perché c'è tipo Ieri giocavo e mi sentivo il gioco Completamente diverso Ho dovuto cambiare tutte le sense Succede anche a me sta cosa E' come se cambiassero qualcosa Tipo con le patch Non si sa Comunque tipo mo Sembra che ho ritrovato anche perché col pompa C'è sto via oggi Quindi non lo so E' una cosa che succede anche a me E poi penso sempre Doctor Doom la sfera quella genchietama gigante E poi penso sempre che Cambiano la sensibilità Cioè cambiano qualcosa all'interno del game Che è un'impressione Mi fa pensare che è cambiata la sensibilità Eh si esatto Ma è da tanto che c'ho sta cosa io eh Sì sì e io pure da sempre Ogni tanto succede Io comunque ho delle sguazzette Ah io pure c'ho delle sguazzette E c'ho pure uno scildone grosso Pulito E cecchino qua Eh cecchino Allora C'è un altro piano ancora sotto? Dov'è qui là? Ah No Venom rip Mi sembrava quello De Stark Ho detto dai abbiamo vinto Signor Rasco Quello de Stark è allucinante Anche perché Da gli 90 Cioè se qualcuno Come prima Prima visto quello lì L'ho grillato perché Stanno a fanfight Da dietro Tac Eh certo Ma perché comunque 90 è un botto eh Non sembra ma è tantissimo La voglia Allora comunque io c'ho Due sguazzette E due scildoni Allora Io c'ho quattro sguazzette Penso che andiamo full con le sguazze E ci portiamo dei due scildoni Sì io faccio questo E vai Facciamo le sguazzette Così ci folliamo Non le sprechiamo Ok vai Fai tu Ok Ok A posto Perfetto Io c'ho ancora due eh Ok top Io c'ho due scudi Allora il problema Di questo land Che qui facciamo Quello che ci pare Però facciamo pochissime kill Eh sì Quindi dovremmo già andare Un po' all'attacco Come sa È vero È vero No comunque io ho detto Di fare Sto land Perché abbiamo Abbiamo bruciato Due partite Ma magari adesso Tentiamo di lutare Il più possibile Dove rega un quel pompa verde E E poi In endgame Provare a pushare qualcuno Magari in difficoltà Capito Ok sì Nella cesta c'era Il pompa verde Ma lol Ma sono un cretino Ma Che Ok 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 Bella spacca Tutto bene Tutto bene Quelli di lu Lol Che potere è Una sorta di minifilm Mi sa che se sono fatta aiutare Per fare L'evento finale Da quelli che fanno Star Wars Signor Rasco Quelli che fanno Star Wars È della Disney No eh sì Però Lucasfilm Cioè tipo gli animatori Quelli che fanno Sta roba qua Il Lucasfilm Praticamente Si chiama l'azienda È la Disney Che sono comprata La Lucasfilm Eh ok sì Praticamente Ah Uh Silver Arrivo Eh poi tocca correre Non ci ho fatto caso Io Cioè Penso che l'evento L'abbiano fatto in collaborazione Con la Marvel Anche perché Cioè Beh voglio dire Sì Non sfruttano L'aiuto della Marvel Cioè sicuramente Poi la Marvel È Come se fosse loro Il progetto Perché comunque Marvel è scritto ovunque Sì sì Ma te lo vai Sì Come dicevo anche in un video Prende se tu vai sul sito ufficiale Della Marvel Se vai nella sezione Videogiochi Compare Fortnite Eh sì Per forza Ormai hanno fatto tutto insieme Eh Tocca andare Official Eh sì sì Andiamo 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 Ehm Che ti volevo dire Ma la cosa strana È che l'evento finale Pesa 4 Gigabyte Sì Quindi Fanno qualcosa di clamoroso E mi sa che Fortnite Francia Ha fatto una cavolata Perché hanno rimosso il tweet Anche se sono arrivati tutti A salvare la foto Ma di nuovo Sempre Qualcuno fa Sì Francesi e brasiliani Francesi e brasiliani Fanno sempre Sempre Bella Flavio Bella Flavio Grazie della donazione Carmine non sto rispondendo Praticamente a nessuno Perché stiamo tryhardando Non vedi le goccioline qui Mo vado a prendere pure l'asciugamanino Tra chi? Tra me il Rasco Io lo odio Rasco ragazzi Sì 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 Io strappo Mi ha strappato Io strappavo sempre i buffi a Gigi È per questo che È vero Ora hai buffi G? Sì adesso sì Ah ok Allora li sono ricresciuti Sì 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 Dall'ultima volta sì Dall'ultimo combattimento A chi toglierà più buffi all'altro E perché dovrebbero creare Cioè che dicevano? Prima stavano spammando i suoi punti Ora diceva Cresi Med Da peso per il culo Per il tuo punteggio Amore Ste parole però Oh Davvero Ste parole oh Mi meraviglio di lei Cioè è incredibile Mi dissocio Assolutamente anche io mi dissocio Signori di Youtube Io mi dissocio eh Qui direi cesso che fai Non le apri? Ok martellone di Thor Che lo prendo assolutamente Lascio Dr. Doom Allora aspettamelo Ah qua altre sguazzette Me le porto me le porto me le porto Vengo subito a prendere Allora sinceramente il pallone di Doom Me lo prendo io al posto di Venom No corri Vediamo un po' se esce fuori Iron Man Eh lo sai me se ci tocca usare Silver Perché se no non arriviamo in tempo E un saluto io non ce l'ho Ma tanto c'ho le sguazze Ah ok ok No vabbè allora aspetto aspetto Magari proprio all'ultimo se lo uso Ok 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 Grande Andrea Ok bello pulito 38 player Siamo ancora un bel po' Beh che la safe è enorme No comunque sempre lì da Stark Se va a chiude eh Ma sempre strana sta cosa però Secondo me comunque Boh non voglio di che è fatta apposta Ma sembra Regà ma sti like che dobbiamo fa Cioè non ho capito Ve li dobbiamo chiedere In francese quest'oggi Se trovi una R verde O anche bianco Pingamolo che almeno lo scambio Lo scambio con sto Famas Ok Eh calcola si io ho la R verde Ma non ne ho visti altri Ok io ricordo Diamo un'occhiata se qui hanno loodato Eh sì Se potremmo pure scendere qui Magari Che non vedo nessuno build Eh infatti Strano Poi l'acolanguito Eh Ma mi sa che qui non è sceso nessuno Lo sai Esatto Ah no C'è una porta aperta qui sulla destra Ah ok Oddio mi ricordo Tra i consigli di Fortnite Cioè quando c'è La scherma di caricamento E ti danno tipo i consigli Sì Ti ha scritto Chiudi sempre le porte Per non lasciare traccia Del tuo passaggio Vero E tipo C'era un mio amico Che era entrato in fissa A tutte queste cose Perché vabbè Tipo ai tempi Chi buildava era un mostro Quindi qualsiasi cosa particolare Facevi Eri devastante Tu che qua c'è anche un falò Se te lo vuoi fare Senza sprecare le sposcine Bello pulito E tipo mi ricordo No no Ma non distruggere gli alberi Che la gente ti vede Chiudi le porte Chiudila chiudila Lo vedevo Che apriva le porte E poi le richiudeva Sì 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 Qualsiasi cosa Vabbè ai tempi Qualsiasi cosa Davvero già che chiudevi le porte Eri un po' di classe Esatto esatto Comunque io ho visto gente Correre per strada lì E anche dietro il monte Di qua a sinistra Ok Ok Stanno tipo smartellando Sono due Uno in default E uno così qui Sono due ignorantissimi Sì Io infatti sto rimanendo Dietro gli alberi Sì che ci abbiamo Un pump blu Però È quello Quello lungo Ma no Zam Lo dice così per Divertire Cosa? Allora No no Un messaggio in chat Ah ok Ehm No perché il fatto che ci odiamo È vero E ci hanno visto Mi sa No no Blef Sempre quello di prima Mimedica bellissima Cioè mi sa la stessa Mimedica mia Quella lì di Mida Ma tu hai visto che la mimedica Olo O foil Quella holografica Ce la danno Cioè la danno solamente A chi non gioca 30 giorni o più a fortnite E deve riportare un amico Che non gioca Perché non gioca Eh sì Ho visto Però per adesso è in beta Ed è solo su invito Per esempio io non posso farla Ma non ha senso Cioè è proprio una cosa No sense Cioè uno che non gioca a fortnite Mettere da 30 giorni Non saprà mai questo messaggio Era più sensato Se lo sapeva No no però No 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 Aspetta aspetta La cosa è che Chi sta giocando in questo momento E sta di questo messaggio Deve fare delle partite in duo Con chi non gioca da tanto tempo Ah eccolo qua sotto Occhio 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 Sì qua sotto e là sopra Eh non lo so Aspetta aspetta Perché siamo contro safe Eh sì È per quello dicevo Però prepariamoci a fede E questi si girano E ci sparano eh Sì Infatti provo Tipo a rimanere raso raso Qui alla montagna E magari non mi vedono Eh questi sono buoni Due sulle zip Sarebbero due punti croccanti No sarebbero dieci punti Eh no sì scusami Volevo dire due kill Croccanti Allora stanno andando Uh no uno sta mirando qualcosa Ah perché c'è gente lì dentro Mi sa che si pushano Se riusciamo a far Ah ho altro team Sono tipo tre team qui Spara questo Spara questo Oh mio dio Martellone di tor Martellone di tor Vai 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 Ok altri 30 No ce lo rubano No ce lo rubano Ce l'hanno rubato Rip E comunque dobbiamo andare sempre in safe Eh sì sì andiamo No che sfiga Eh quello sì Quello sì Questo sì giusto Giusto che non sapere leggere e scrive Sì 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 buona Tu che escape hai quindi? No zero No rip Ma porca miseria Ma che sfiga Ah poi c'ho C'ho uno shieldone Ok Te lo lancio lì Tu lasciami qualcosa No 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 Lo posso portare Non lo posso portare Non lo posso portare Non lo posso portare Non lo posso portare Ah no no dicevo che Ok 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 E ci giriamo Li frulliamo Perché loro sicuramente Mui gli prende il panico Ah sì appena Se non ci furono Non è da dietro eh Ah beh sì Qui sono delle altre sguazze Ok Loro tanto devono in safe Tu hai qualcosa Da lunga distanza? No c'ho successo C'ho la R E c'ho il pallone di Doom Ok pulito Il pallone di Doom No non capisco niente Come ho ordinato ste armi Eh uno sta a volare Come sta a volare Eh uno è volato Tipo qui sta andando a prendere Eh hanno preso il rift Ok va bene va bene E avevo visto delle altre sguazze Da qualche Stanno là dentro Eh le prendo? Eh come vuoi No meglio di no Meglio di no Matteo grazie per la donazione caro Un bacione Però non dono su donazione O comunque su richiesta in generale Hai detto non dono su donazione Non dono su donazione Non gioco su donazione Matteo Un bacione Comunque grazie del supporto E anche a te Francesco Non mando richieste su donazione Grazie per il supporto Però ragazzi 20 player alive Questi sono belli I bei punti Se ci riusciamo Eh si Si Io ancora so con sto famas Non dono su donazione ragazzi Non dono su donazione È da tatuaggio Si Assolutamente Io sto andando verso la safe Perché non vedo niente Nessuno eh Ok ottimo Guardi intorno Perché sicuramente I piccioni sul cornicione Delle industrie di stock Ci stanno osservando 100% Sì 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 Assolutamente E ci vogliono fare Ci vogliono fare i loro bisognini in testa Eh sì 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 Bella Emi Grazie della donazione Un bacione Grazie per il supporto Grande Andrea Mi raccomando Forza Questi like amici miei Da regà Per quest'altra endgame Infatti ragazzi Su Le vogliamo lasciare Su la finestra Eh sì C'è un potere Che hanno Abbandonato Che è Wolverine O l'abbandoniamo pure noi Io lo prendo Ok Allora Io mi metterei sopra Che ho il cieco Almeno vediamo anche Un po' Ah no C'è già uno sopra di noi Volevo volare Ah no Blef Sei andato Sei andato Ah no 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 È tornato Aspetta però Dove Sta in volo Sta Ah si è messo di là Eh no Non l'ho itato Eh però tocca Va bene Va bene Tanto lui è in difficoltà G Aia No Sono volato per sbaglio Eh Se tipo Butta è morto No Ma deve essere ancora vivo Eh Magia C'è un pesce secco lì Che sarebbe molto gustoso Se si affaccia Uh Pieno Oh questo era da Regà Questo era da Cioè non lo so Io Proprio da Giocatore di basket Professionista Cioè no No ci rubano la kill Gli ho fatto un sacco di danno A quelli là Infatti l'hanno uccisi Ci hanno rubato almeno Tre kill In sta partita Eh sì ma ci hanno rubato la kill Bravi o no Sono bravi a rubà Io sto col cecchino Puntato Bello Bello G Eh ma pure prima ho fatto canestro Sono non sono morti Uh Sui piedini Se ti prendo Ripperotti Ho finito pure i colpi What Hanno riavviato C'è un player anche laggiù Eh non so Ci dobbiamo muovere tra poco eh Sì Io non c'ho più colpi dell'assalto Io non ho 106 Se me ne dai un po' Ok uno si è detto Avrà nato Tipo sotto Ok Te ne do un po' di colpi Assalto Magari Thank you so much Eh non lo so Ci vogliamo provare a muovere O rimaniamo qua sopra Eh no ci dobbiamo muovere per forza C'è un grotto là Sì Non lo so Peccato Peccato Allora questi ci hanno visto Sì Non si aprono Uno è sceso Tanto noi con l'aria possiamo andare dovunque Uno ha volato con Oh Dove? Eh no vabbè stanno andando in safe Stanno andando tanto 21 Eh c'è anche altri che stanno volando 21 Ma noi Oh di quest'altra è safe G andiamo sopra quest'altra Ok vai Prendo lo slancio Ok ci arrivo Giusto giusto Eh io infatti Eh rip Io sono sceso Giù perché No 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 Gli è entrato pure l'headshot Eh io rimango Ho visto il pesce secco che sparava Ho fatto solamente 21 Eh rimango un attimo qua Fermo lì Tu frego lì Uh 105 sulla spalla Ok bravo Non ho capito Minimamente Guarda che cucculo Hanno busciato? Eh l'ho visti Oh ma non mi entra un colpo Eh? Ma da dove? Ma che cavolo? No vabbè In volo Ma che pizza però Ma da dove sono? Ma questi che stavano a fare? I topi là sotto Ma Ti posso restare Ah Eh non lo so Perché sono caduto proprio in me Ma che sfigare Comunque tutti gli headshot Li prendo io Stapartita è stata sfigatissima Ci hanno rubato almeno 3 kill E prende Tra tutti quelli che si stanno sparando L'ha serato solo noi praticamente Allucinante Questi qua Cioè ma Comunque A me mi hanno fatto Un attacco di Iron Man Però dal basso Non penso che erano loro Questo scende E mi killa da dietro Pazzesco Eh 200 punti 200 punti Siamo arrivati Sì Io 198 ne vedo Eh sì 198 sì Migliore 10% Comunque No Baggatissimo Impossibile No no Secondo me sì eh Perché calcoli A 10% è tantissimo G No ma che sai Sta coppa la stanna fa Tipo Secondo me Tutti Cioè sta coppa la stanna fa Proprio tutti Secondo me No invece Secondo me 10% ci sta Calcola che Secondo me Se di solito Ste coppe Lo fa un 500 mila persone Questa ci stanno 2-3 milioni Perché Sì sì Queste stanno tutti 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 I pro player Di solito Ste coppe un po' così Non le fanno Quelle che facciamo noi Raramente si mettono a farle E questa invece Stanna fa sia loro Che quelli della community Penso che questa sia Una delle cup Più giocate Del mondo Ovvero Sì 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 Vabbè anche perché C'è un premio Che è allucinante Anche se in realtà Ho letto che il milione È diviso per tutte le regioni E per tutti quelli Che vanno a premio Cioè C'è un milione Europa Un milione così No no Un milione totale Quindi tipo Tot Europa Quindi tipo Ho visto che i primi In Europa Non è che arrivano A chissà quale cifra Ah ok ok Ho capito com'è Poi ovviamente Loro hanno scritto Un milione Perché totalmente Parlando è un milione Bella Valerio Grazie dell'abbonamento Un bacione Grazie del supporto Comunque diciamo Che come il riscaldamento Subbio torneo Non è il top No no Quello no Sicuramente non è il massimo C'è proprio una Vissuta Una Cioè si vede Proprio in maniera Totalmente diversa Il bus Così Si 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 È proprio diverso Si Eh Scegli tu qui Non dico niente Scegli tu Addirittura Beh per forza Per forza Per forza Allora vedo Io ho trovato Una pistoletta bianca Allora c'è un sacco di shield C'è i mini shield Per te Sono Due Tieni Eh devo riuscire a trarre un po' Un panchino Eh vedi mo per quelli che stanno nella fortiglia La safe è un problema Pure per noi eh Però ho già un po' di meno Gigi devi bere Se Serena non mi ricarica La cosa Come faccio a bere Stamo nell'accia Allora C'ho le splashine Ok Che sto pulite Io comunque Una spizzata Alla fortiglia Gliela darei Perché se riusciamo a fare qualche Non penso che ci sia un loot Per tre team lì Quindi qualcuno sta veramente messo male Eh sì Allora Se vieni Ci spli Lasciamo tutti Arrivo 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 E allora vai Andiamo subito Anche perché sennò poi si fa troppo tardi Se andiamo vedete che dicono C'è uno scudo Stanno a scrivere C'è uno scudo Boh I scillini erano sempre Ho visto che c'erano svariati i scillini Ma lo scudo boh Vabbè regalanto ormai stiamo a andare lì a pusha Sì ci sono dei funghetti qua Quelli slurperosi Sì Quelli ne basta uno per uno E ci folliamo E dovrebbero dare Ten Uh c'è chi nata È nell'acqua Sono nell'acqua entrambi Uno è fermo Ok Attivo i paracodisti Sparano Ok Il sample c'ha quelli Eh niente Non mi entrano nemmeno un colpo Uno scappa con Il problema è che noi non dobbiamo prendere questo solo Dobbiamo prendere Eh ma io quella kill easy me la voglio fare Dai one shot È one shot Non ci credo Non me lo ruba Eh ti prego ti prego ti prego Calcola c'è tipo 6 di vita Almeno che non si è curato Sì si è curato Però è one shotissimo Ok grande E il problema è che noi questi qui Sono bravi Eh sì Lo so Però almeno ci siamo presi una kill Ma mi sai se ne sono andati Sì Oh ma hanno diffiato di polizio Oh mio dio la gente Sanno qua Sì 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 Però se ne sono andati Mi sai qua il loot ce lo riusciamo a fare Quello che ci hanno lasciato Sì però ci hanno poca roba Rip Eh vabbè Mi fate gli affari vostri? Eh vabbè sì Ma ti hanno ripreso Ma da dove c'è chi? Ma che è sempre lì Quelli che abbiamo pingato prima Ma io non ho parole C'è tipo dietro il cespuglio Ma è tato Non lo sa nemmeno lui Eh stanno lì sopra il tetto Io c'ho due colpi dell'assalto Quindi rip Ma sai che mi sa che è uno da solo? No no so due Ok Rip Occhio eh Me ne vado da qua? Ah rip No no Ovviamente non me ne vado via lontanissimo Ma prendo position più distante Perché era proprio là St'ha pushato? Sì Con Wolverine Eh ma questo l'abbiamo distrutto Dai Ok un po' iltato Sta arrivando 26 netshot Sta qua dentro No Per prendere te Mi ha preso a me In headshot Grande signor rasco Ma non ci credo Oh mio dio Cioè per prendere Lo sai quanto mi ha tolto? Più di 150 Per prendere te Cioè pensa a questo Che fortuna Oh mio dio Io il famas Lo odio Dalla distanza Non mi entra un colpo Allucinante Allora Che robetta avevano La tristezza Eh Wolverine Me lo prendo un attimo Io poi se lo vuoi Te lo lascio Ma almeno mi curo No 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 Ok Mia Mamma mia Mamma mia Oh my gosh Il loot di quell'altro Che era sempre qui E mi sembra Si Eh vabbè Vabbè Dobbiamo trovare Degli scudini Allora Alla Alla falegna Io ho tre cildini Ho tre cildini Ti li lancio Ho sbagliato Vai vai tranquillo Vai il più lontano Possibilmente Io ho quello di Ah ok Ok perfetto 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 Mannaggia Bella Samuele Sono sciocco basito Anch'io sono sciocco basito Da quello che ho appena visto Sono sciocco basito Chi lo dice Elettra Lamborghini Ovviamente in versione Femminile Chi? Elettra Lamborghini No? Dice sono sciocco No Oddio no Non lo so Eh non lo so Ste cose non le seguo Io Elettra Questa dice sciocco basita Bella Cristian Vabbè si per forza Ok Chi diceva cosa? Milena ma devi cambiarti L'asciugamanino Che è troppo bagnato Ormai Madonna raga Ma eh si E da prima Non riesco ad asciugare bene Per quello Non stiamo riuscendo a performare Cioè allucinante Non trovo una R Ma a parte la R Noi non troviamo mai I superpoteri buoni Cioè ma fammi capire Sta cosa Oh noi non abbiamo mai trovato Solo tu una volta Mi sembra quello Sì sì È vero C'è solo una volta Oh Uh Eh no è bene Mamma mia Mannaggia C'è una cesta Allora Qui è da udare Casa di Antman Ok Che non è male No Grazie Carla Ok Eh no però faccio così Faccio C'è anche il Rift qua Ok Il problema è che io Stabotta non c'ho Escape Cioè c'ho solo Wolverine Come potere Non abbiamo trovato Nemmeno un potere Ma che cavolo è Eh raga Durante ste live così Che dobbiamo traiardare Insieme a Rasco Seguo poco la chat Ragazzi Cioè Capitolo anche un po' Qui c'è una shieldone Ok top Così mi fullo Cioè non è Non è cattiverio Ogni tanto leggo Ogni tanto no Ma Non è facile Che in realtà G lo sai che è Noi potremmo Cioè Se noi impostiamo mentalmente Che è un game qualsiasi Cioè senza fare La cosa della fuga O cosa del genere Alla fine Il livello dei player Non è altissimissimissimo Eh No no Infatti Infatti Cioè allora Te può di male Perché magari comunque Becchi due traiardini di turno Però sì In generale Non è così alto Uh Groot Tu non lo vuoi Non ti serve Eh no Tanto ho silver Allora Considera che io sto lasciando La granata onda d'urto No Ma prendo io Ok vai Sì perché Allora Io mi voglio provare a tenere il cecchino Perché ho visto che per stilare le kill agli altri È tipo il number one Quindi sto tenendo cecchino Pompa e AR Ok 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 E poi c'ho Wolverine e Groot Se poi riesco a cambiarmi Wolverine non sarebbe male Se trovi una RX Qualsiasi Dimmelo che me lo prendo Proprio al volo Che sto fa Ma se ne la faccio più Allora Considera che c'è un Uno scudo qui Però non so se togliermi Wolverine o il cecchino Però il cecchino L'ho detto Vorrei provare sta cosa Che me tolgo Cecchino AR O Wolverine Ma per cosa? Per il Per lo shield Eh No facciamo così Dai Lo porto io Tanto tu hai altre cure? Eh no C'ho solo Wolverine Per la cura diciamo È Groot Ah è Groot Sì Tu che c'hai come cura? C'hai gli shieldini tu? No non ho nulla Io avrei lasciato La granata che l'hai lasciato prima tu Ok E noi ci portiamo una cura Di shield Sì 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 Meglio No dai Ma guarda la safe di nuovo Eh Dobbiamo fare chilometri Eh no ma più che altro Comunque c'è una marea di moving eh Sì sì Cioè possiamo fare un sacco di cose Sì sì Poi io posso andare pure più veloce Con Wolverine C'ho il turbo Quello che è però Ok E qui Mi puzza di playerini Sento l'odore anch'io Di che c'è Per terra Se sa Eh una pistoletta blu E un combat blu Ma un Un tristissimo R Eh no Bianco C'è da qualche parte Madonna Ma poi si trovano pure poche munizioni Oddio che cavolo ho visto No c'è gente c'è gente c'è gente dietro il benzinaio E mi sa che ci hanno pure visto Ah ci abbiamo gente pure a destra Sono ovunque Ho sparato a quello Orca la miseria Ok 105 Rotto lo shield Oh mio dio Mi hanno tirato una sassata Sono morto Adesso andai oggi Me ne so proprio andato Ok 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 Eh mo se ci riesco pure io me ne vado No ma c'è altra gente Come cacchio faccio io andammene Oddio Hai un escape x qualsiasi C'ho solo Groot Va bene va bene usa lo uso Groot è buonissimo Eh sì Sì infatti me lo uso per forza Mannaggia se mi entrava l'headshot Io ho usato quello shieldone lì eh Ok ok si hai fatto bene Eh io se ci rincontriamo ti lascerei Wolverine Però sto a scappare che quei due mi stanno a continuare a inseguire Tranquillo tranquillo tanto a Silver C'è un altro Wolverine qui C'è un altro Wolverine Ok va bene Te l'ho pingato però non so se fa in tempo a venirtelo a prendere Sì sì lo prendo lo prendo lo prendo Hanno tipo Uno di loro ha il raggio di Sì di Iron Man Sì Purtroppo lo so Ok Però ragazzi veramente pochi colpi ci stanno in giro Uh 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 altro potere qui che cos'è Tondo così che è Black Panther Sì è Black Panther Potremmo andare sull'industria di Stark Allora io sto vedendo se qui dietro ci sta un Rift Perché se c'è Rift secondo me ci conviene prenderlo Allora Silver qui Ah rip dove Ah eh ormai non faccio in tempo E qui è Doctor Doom Eh ormai non sto troppo lontano e la safe sta arrivando Ok c'è gente sulla zipline No non l'ho preso Ok 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 Mamma mia l'ho arato Mamma mia l'ho arato quello lì Eh non mi so più entrati colpi Fuori io fuori io fuori io Eh io da tutto lo shield Eh Occhio c'è gente dietro ci Ok non male Non è una buona situazione questa Perché ci possono Fa male pure quelli sopra Eh sì Io me ne andrei proprio Eh sì Uso Krut Aspetta ma dove ce ne andiamo Dobbiamo No vabbè No 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 possiamo 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 fare Possiamo circunnavigarla Eh me l'hanno distrutto Provo con Wolverine Ah io sono morto considera No 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 come sei morto Corri 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 Che cazzo Cioè dai Ma quante partite so che non riusciamo a fare le kill per pochissimo Eh Uh qua 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 che cos'è R bianco E mitraglietta dorata Sto lasciando l'R blu Aspetta 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 Vai E che te sei preso? La mitraglietta d'oro E giochi senza R? Sì 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 Tanto provo il cecchino Eh ce n'hai qualche colpo cecchino per caso Se non ce l'hai tu il cecchino Ce n'ho una marea 10 Ok Vabbè mitraglietta 63 ce può stare Tanto pure la R Ho finito i colpi della R Ok ce n'ho 621 Non tantissimi Ma da ma tu che se ritrovi Ogni volta in sta modalità sto senza colpi Allora non è che c'è qualcosa pure per la mitraglietta eh Mitraglietta sì La uso pure io Te ne do la metà Ok perfetto top Madonna Rasco il distributore di colpi Dobbiamo andare in pitch A vedere che stanno a di qua davanti Eh sì O se no airdrop sulla destra Ma non ci torna utile tanto l'airdrop Eh no Potrebbe non tornarsi utile Però comunque era in safe Mi servirebbero dei shieldini Occhio qui stanno build Ok qui gente 100% Arrivo Mi sono andato a quest'altra parte considerata Ah ok aspetta voglio provare a vedere se con una cecchinata Mi rubo qualcosina Eh no vabbè niente Ci ho provato, ci ho provato, ci ho provato Mannaggia oh Ok credo se ne sia un'uscita qua Ok G Eh una Mon mio dio C'è il delirio qui alle industrie Sicuramente qualcuno uno cecchini eh Sono una marea di box E' ancora quelli Stanno fanno un casino Questo è cecchino abilissimo Rosso Ping rosso Oddio dove? Ma aspetta Ping rosso State qua oh Ah lì Qui 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 E' fuori E' fuori E' fuori Sono due Mo si è messo dietro quelle strutture Loro devono tutti in safe eh Sì Spada Spada A chi lato? Grandissimo Aspetta lo finisco io col cecchino Mazza Mentre ho pure l'headshot C'è l'amico qui Ok questa è una buona posizione per noi Sì Però non siamo in safe Che balla di all'amico che esce Uh Top 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 Bella Kevin C'è anche qua Cecchino Cecchino Visto Mi sparano anche altri da un'altra parte Ah sì Mannaggia la miseria No ho sbagliato Cavolo Aia Ok Bella Kevin Me ne è andato proprio G eh Sì ok 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 Vado qua Te laserano Ok sì 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 Sono sceso Riprendo vita con Wolverine Stanno sparando là davanti No ti sta pushando Ti sta pushando questo Ti sta pushando con l'impulso Porca la miseria Te l'hai stato Te l'hai stato un po' Però pochissimo calcola eh No da dietro Devo andarmene con Groot No ma mi lagga Mi lagga Non capisco No vabbè Mannaggia Ma non ci credo Eh ma da dove Ma da dove arriva sta gente Da dove arriva sta gente Ma come è entrato Sono morto però Ma io pure sono morto Ma perché stavano tutti qui A me mi ha laggato una cifra Bella Kevin Grazie dell'abbonamento E per la donazione Un bacione Grazie di cuore No no raga No no Non a me Non sta laggando Arca la miseria Doppio raggio Eh sì Doppio raggio Vabbè Ma che vermi Cioè ma poi a sta partita Non ci hanno dato mezzi escape Io c'avevo solo Groot Cioè Mannaggia la miseria Che vermi Doppio raggio Cioè proprio a distanza Ultra L'avvicinata Sì L'avvicinissimo Schifosi Ma poi considera che Cioè tipo Io sono scappato da quei due Perché se erano fucussati su di te Mi sono arrivati altri due Uno con Silver E in alto Mi pare di nuovo con Groot Mannaggia È allucinante così eh È bello È tot Cioè È difficile Comunque questa modalità Perché chissà giocare Gioca pure bene con i poteri Eh sì Grazie Kevin Grazie grazie mille Benvenuto Thank you so much Allora E quante partite ci rimangono? Tre partite Tre partite Un'oretta ci sta Come stiamo di percentuale? Ah non ho controllato Aspetta no Avere comunque pure questa Non è stata troppo male Eh abbiamo fatto quei punti Eh da quando abbiamo iniziato Sai che forse noi ci siamo mangiati Parecchi punti con la prima partita Perché nella prima partita Magari Ma tu sei entrato nella partita? Oh mio dio Sì A me non mi ha fatto entrare Mi ha fatto Che è successo? Ah te l'ho scritto Matchmaking Eh Infatti Quando sono tornato in lobby Non c'avevo il pronto Io considero Un so In caricamento Si è entrato E sto da solo E qui adesso che succede? Non lo so Voglio dire Se io tengo pronto Che succede? Cioè a parte mi lagga tutto Mi lagga tutto Bella Kevin Grazie mille ancora Grazie grazie mille Cioè se io Cioè non lo so Perché se magari Quisto Non ci conta il game Se gioco ci conta punti Eh non lo so Mi è entrato pure a me adesso Ah ok Mi ha tipo cacciato a me? No come ti ha cacciato? Sì sta in caricamento? Ma che diavoli è mai questa? Cioè io qua se me stavo a giocare i soldi Madonna smadonnavo Ah siamo dentro insieme Cioè a me dai che stiamo insieme Ok perfetto Che allora le avrà cambiato lobby E lui Sì sicuro spero Dai almeno Dai qua si è dimostrato intelligente Qua si è dimostrato intelligente Forte Ma guarda Quella lobby di prima è startata Forse era un game normale Non so dove aveva mandato Però era andata Quindi qualcuno gioca da solo Io calcola Sono andato a vedere la classifica Ma come faccio sempre Ho messo pronto e sono andato a vedere la classifica Mentre guardavo la classifica Matchmaking annullato Dico vabbè sarà stato rasco Che ha tolto il pronto Poi no no ma io sto dentro A me comunque non capisco che succede Tipo non è che mi laga Mi frame laga Quando metto le build Mi lagchicchia Secondo me sta modalità C'è qualcosa di strano È baggata Sì ci stanno troppi poteri Allora dove ce ne andiamo? Non lo so Tu dove te ne vuoi andare? Io direi a questo punto Un Foschi per rinascere Ci serve il Foschi Fumagliore per rinascere Vai Ma se ci viene bene Io farei Foschi E poi Stark No 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 Quello dopo è un'altra Per chi si qualifica Quello dopo Ne facciamo questo e basta Comunque scusa rasco Dicevi? Dicevo No dicevo niente Andiamo Sarebbe carino fare Foschi E poi direttamente L'industria di Stark Eh sì Vero Grander fratti Grazie mille Grazie grazie mille Di quello che è scritto Soprattutto nella donation Ah grazie C'è gente eh Ok Allora io vedo Se riesco a prendermi subito Questo assalto Sono sceso malissimo Bella Marte No 200 Aspetta Oddio L'ho atterrato uno L'ho atterrato uno Fenomeno Mi devo fare un po' di materiali Per andarlo a finire però Io tipo ho preso 8 pompa Eh io sto aprendo Ad andare a finire questo Ma non ce la farò mai Mi sa Ma dov'è? Qui Ok No Dove cacchio è Dove cacchio è? Dove cacchio è? Dove cacchio è? Dove cacchio è qualcuno sulla zipline? No Ma che è scappato questo? Dove è scappato? No ma lei 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 L'ho atterrato Però non lo trovo per finirlo Eh no No per forza Questa Ma guardate Erfratti Grazie del supporto Grazie mille caro Con 233 punti Secondo te Vinciamo qualcosa? No Non penso Sono troppo pochi Considerate E solamente I Trecenti I migliori Trecento Passano al prossimo torneo Eh L'aghillato Sì Ma ha dato la kill Sì 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 Ma l'ho sentito proprio morire Che poi sul prossimo torneo È lì che proprio c'è la possibilità Di vincere Tutti quei soldi Però bisogna fare una marea di punti Eh sì Ma meno male che mi è entrato l'hedgehot Prima che si riuscisse a coprire Perché se no non lo finivo Ma comunque c'è un suo amico qui in giro? Eh sì per forza Però non mi segna più passi Non sento più nessuno Quindi non vorrei che tipo io Gli ho ucciso il compagno E lui per paura è scappato proprio Eh probabilmente Riene a prendere la testa però eh Eh sì Quello sì Ho uno shieldino Ma non ti interessa Ma ho delle sguazzette profumate Ok Che poi Tra l'altro la cosa bella è che Io non so niente dove sia morto Quindi non saprei neanche dove andare a aspettare Qui c'è il cieco G Ah vengo a prendere va Dov'è? Eh ma può essere che è morto qui? Perché c'è un po' di loot sospetto? No lui non ha fatto in tempo a fare nulla Calcolo l'ho ucciso mentre scendeva praticamente Cioè è sceso ed è morto Ah ok Ah c'erai quei colpi del cecchino? Eh vediamo penso sì 18 ma quando l'ho presi? Ma tu dove li prendi? Non ho creato Ma tu spacci qua Lui vai a prendere le cassette di munizione Al contrario No io le sto aprì tutte Guarda penso che sono proprio nato Con quei 18 colpi Nell'inventario Perché non mi sembra Di averli presi da nessuna parte Ma io dopo che la prima partita me la sono fatta tutta senza colpi Anch'io li sto aprendo tutte le cassette C'è una certa furbetta Non capisco dove Probabilmente qua sotto Ma allora ho trovato uno shieldone Lì ci sono Ah altre sguazzette Così ci fulliamo Belle pulite Arrivo Aspetta Sì Vai A posto Allora ci possiamo già muovere Perché tanto tu Io non ho un super potere Nemmeno io Ah è vero Nemmeno io Ma che cacchio Ok Ma questo è un game normale Mi sa lo sai? Eh a questo punto mi sa De sì C'è stato un game normale Però io ho i punti No no Però me li sta dando i punti Mi ha dato i punti della kill Ah ok Ah è vero Però si Sembra troppo però Eh lo so Però me sta dai punti positioning I punti della kill Poi andai indietro nella live E vedi quanti punti C'avamo prima di inizio il game Ah no no Eccola 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 Aspetta Il potere di growth Ah ok 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 Sì sì no Poi lui ha trovato il potere Quindi ok top Growth Black Panther Silver Mi prendo silver Bella Mauro Grazie grazie mille Dove sei però? Sì per di nuovo Eh sopra Ah ecco ok Eh allora mi sa che il cecchino a sto punto me lo levo però Eh sì Ma io direi giochiamo come se Oh Uno shieldone Anche io li sto tenendo gli scilloni Dai Io direi giochiamo come se fosse un game normale Come se magari I superpoteri Escono fuori dai Qui in jet Perché Mi credo che siamo un po' demoralizzati mentalmente Da sto fatto che dobbiamo portarci i superpoteri Invece possiamo giocare tranquillamente Come se fossero game normali Alla fine Eh lo so Però Ho visto quanto sono importanti Tipo nel momento in cui puoi scappare Nel momento in cui puoi Cioè almeno i movement Io me li sto a prendere Cioè però tipo Venom Sta roba qui La lascio anche Sì Io in realtà Silver me lo porto E mi porterei volentieri Ironman O Thor Eh Ironman sì Thor pure sì Comunque io direi di iniziare ad andare Magari tiriamo fuori anche qualche altra kill Qui c'è anche un cieco se ti interessa No 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 Ormai ho smesso Allora io sto andando Verso di qua Che c'è la zipline Se non riusciamo a salire sulla cosa Che ci permette di salire almeno qua Ok Io ti aspetto direttamente su Ok top Sì anche io alla fine Sono riuscito a salire Ok questa è da l'uda Pulita Arrivo Magari troviamo qualcosa di buono Ragazzi Qualcosa di buono È sicuramente lasciare like a queste due live Quindi mi raccomando È vero è vero è vero è vero Per forza Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Monellacci Eh Bart Te lo so Ma un sacco di gente sta messa così È un macello Oddio ma la cesta qui dov'è? Qua davanti? Ce ne stanno svariate qui Quindi non Non saprei Poi qua c'è Non ci vengono neanche di solito Oddio un altro scudo C'è tipo 20 scudi C'è no 3 ne ho trovato un quarto Però non lo posso portare Scudoni? No io porto i scildini Ok ok meglio 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 Anche se solitamente prediligo i scudoni eh Ai scildini Eh anche me Non ti metti più tempo però Anch'io Però se già ce n'hai tre capito Sì no è inutile Allora eh niente Dobbiamo andare a fare 6 killette Vediamo se ci riescono Se ce n'è bene Qui comunque non ci scende nessuna Ci potremmo anche troppare noi che siamo A R Che siamo anche in una buona situazione Perché siamo vicino a Stark E sicuramente c'è tantissima gente E sicuramente c'era safe Ah sì 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 sicuro Ormai abbiamo capito il trucco Sanno anche una maria di cesta Sì Hanno riftato Probabilmente vengono qui eh Sì Quasi sicuramente Eccoli stanno sopra Verso 334 No no stanno andando dritti Stanno andando dritti I guanti di trium Bella Emanuele grazie mille Grazie mille Emanuele Zorzi Penso di quittarli Quanti doom no Che sfiga però ragazzi Oh Ah questa è la tua Ah no allora la palla Il pallone lo prendo E altro scildone Ma no no Anticildoni Mi sa che dici Oh che ho fatto arrivati Sono arrivati Dove ho No so io so io so io Ah eh Ah ok perfetto Ok Che tolgo grutto silver Grazie mille Emanuele Grutto silver che lascio Vabbè silver Lascio silver Sì perché grutto ti dà la vita Sì sì Allora ci sta una cassa da aprire Quindi là non c'è stato nessuno E guarda una volta che stavano Le Stark Industries Sta safe Non si aiude qua Ma nessuno è stato Le Stark Ah no Sì 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 Sono build Però tipo non hanno preso Le chest Ottimo che questi Li spariamo È uno solo G Dov'è Dove l'hai visto Non te lo posso pingà Ah eccolo Messo su in alto Dovrebbe avere poca vita eh Mai preso neanche una volta Nemmeno io Ok niente Peccato Allora 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 Qui ovviamente Dovrebbero aver fatto Tutti i loro comodi Sto prende a vedere dall'alto Ma non vedo nessuno Ah c'è una cesta qui Questi hanno lutato Potere Ho venato sul pantera nera Niente ma sempre lui Un altro scudone Oh bello questo Vai tutti i tuoi Iron non me lo prendo per forza Troppo utile C'è hanno lasciato il suo Per potere di Iron Ma va bene che Oh forse anche l'altro No Beh non Allora hanno aperto il cavo Mi prendo sto pump C'è il super potere di Crout E no C'è la UG se ti interessa Sì 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 Pono ragazzi Pono Pono E niente Ce ne dobbiamo andare di nuovo in safe Stiamo rincorrando la safe Occhio perché qui c'è del loot Ok Con 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 tempesta E un po' di zozzate C'è una bouncer Ok sicuramente incontriamo qualcuno Sì sì Sicuramente Vediamo un po' che ci riusciamo a inventare Mi apro sta chest Mega build lì Hanno fatto un grattacielo Lo sparano? Sì sì sparano Qua dentro Stanno qua dentro Ping Ping please Qua 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 Proprio qua dove sto io Qua dentro Ah dentro da te Oddio questo qua l'ho laserato Eppure lui Ma mannaggia la miseria Eh prova a farmi lo scudo No Dai Ma dove Io la sto odiando Questa modalità La sto odiando Sono tre volte che muoio Perché qualcuno mi cade dal cielo così Ma è nel tuo box? Sì Questo era quello che avevo laserato Ma sicuramente si sarà curato Ma questo è pure bravo Ah Non ci credo No vabbè ma io non ho parole Sono due volte che muoio Perché No tre volte perché qualcuno scende così Ma con le Con l'impulso? No Con i cosi di Non l'ho capito Mi sa con quelli di Iron Man Pure lui Comunque Ho notato che quando usi C'è i guantoni di Iron Man E poi Metti il build C'è qualcosa di strano Quando buildi Non so se Ci hai mai fatto caso Sì 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 Ma un po' anche come la sensazione Delle granate Io non so se lo sai Ma tipo le granate Sono buggate da tre anni Su sto gioco Non l'hanno mai fissato Perché? Perché ogni tanto Quando hai le granate in mano E tipo Ne stai lanciando una E ti sparano Non ti builda subito Ci metti tipo un quarto d'ora Al gioco A lasciare tipo la granata Ah è vero sta cosa È vero sta cosa Sì Vabbè ma per me ormai È abitudine Cioè dal momento che lo sai È da sempre Infatti io le granate Per quello non le prendo più Praticamente Bella distruttore Mannaggia la Allora ci rimangono due game O facciamo un game Pazzia O facciamo un game Semi pazzia O facciamo un game Bello tranquillo Allora Se noi Ci rimangono due partite Io direi Uno tranquillo E uno pazzia Perché su uno Ci dobbiamo giocare Per forza Tutto per tutto Eh sì Cioè tipo uno Deve essere vittoria Con dieci kill Esatto Sì Eh che top sono No aspetta Ragazzi non lo vado a vedere Perché poi magari Se bugga come prima Lo guardiamo dopo Ragazzi Ma guardate la miseria Oh mio dio Dunque alla fine della fiera Ci abbiamo circa La media del primo game Che abbiamo fatto Di 40 punti La media Ah sì È quella È quella È quella Facile Porca miseria Perché lo sai Qual è il fatto È che Cioè io lo so Perfettamente Che uno Se deve coprire Pure sopra Però dico Che ne so Gli ho tolto 100 perché Mi è entrato Un hatchet Due volte corpo Dico vabbè Non mi pusheranno Adesso Invece prende E mi ha pusciato Dall'alto Così Ma poi questi Erano quelli Dentro la casetta Sì erano quelli Dentro che erano usciti Mentre erano usciti Io ho laserato questo Che poi tra l'altro È quello che ti ha ucciso E che è quello Che ha ucciso pure me Oh Io mi sono messo a curare Perché poi il compagno Mi ha laserato E mi ha pusciato Però pensavo fosse il compagno Invece mi aveva pusciato Proprio lui Cioè della serie Non gliene è fregato niente Che Decurarsi Quindi se io non mi fossi Messo lì a curare Lui mi aveva pusciato L'avevo ucciso Allora Vogliamo provare Il dominio di Doom Magari prendiamo La mitragliona Vai proviamo Sentiamo la sorte Al dominio di Doom Dominio di Doom Sono sempre cattivi Eh Hanno trattato sempre male Tutte le volte Ci sono andato Sì 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 Diciamo che gli scagnozzi Non sono buoni E tranquilli Hanno strappato I calzini Ragazzi Siamo un po' affievoliti Con questi mi piace È vero È vero È vero È vero Ci siamo un po' affievoliti Ah che tra l'altro Non ci dovrebbe essere Né Doctor Doom Né tutti gli altri Supereroi in game Tecnicamente no Ok due team 100% Sì qualcuno c'è Eh mi sa che Io vado qui Ok ci provo Eh sì pure qua Oddio qua però c'è un pump Lo prendo subito e arrivo Chi è Sono Il cattivo Uè Fanno troppo ridere I rumori degli scagnozzi Sì sì Ma che se ci hanno fatto Una canzone Ah sì sì L'ha messa proprio in game Poi Fortnite Sì Ok Già stanno sparando Bene Bene Io c'ho le splescine Oddio Ok Passi C'è il dove C'è il dove C'è il dove C'è il dove Uno scagnozzo dietro Porca la miseria Amico me ne so accorto Allora Uh bello questo Aspetta vieni Facciamoci subito le splescine Che qua non mi fido De niente De nessuno Aspetta Vediamo se trovi gli sciglini Però va Ok non so Altre splescine Ce le facciamo tutte Vieni Allora ti lascio questo Ah ok vabbè Ok dovremmo andarci Beh io non sto Bene che abbiamo Cento e cento Di shit vita Prosto senza pampa Ok Perché dovremmo andare Subito a becca Quelli che hanno sparato Chissà stanno messi male Eh sì Puoi avere subito Allo start Il pallone di Doom Non è male Oh ma qua hanno già Lootato qua dentro eh Infatti sento quasi Eh no forse sono entrato io Ah no ok Ok sì forse sì Sento passi ma potrebbe Ora È Doom È Doom C'è Doom? Sì Eh no ha infuocato tutto Stimfa molto Ok pallone contro pallone Eh sì no ma Lui ha infuocato tutto L'ho fatto cadere È caduto Eh lo lascio perdere Perché sta in mezzo Tipo a tutto il fuoco Ok non so dove sono Gli altri player Avversari però Eh no Nemmeno io Ah ma è tutto infuocato Se trovi un qualsiasi Ah ho lasciato io Quello bianco No non so Ah ma è Doom Ah ma è Doom qua Eh Questo è matto Ok è atterrato Eh ho lasciato Quello mio bianco Ma mi sono dimenticato Ah C'è anche la card Ovviamente Aspetta Ti lascio Le splashine qui Prendo la guard Sì sì Perfetto Proviamo ad andarci Non ho idea di dove Di dove siano gli avversari Eh nemmeno io Nemmeno io sinceramente Ho controllato fino ad ora Ma Allora io provo a travestirmi Ah c'è pure uno scudo qui se vuoi Sì 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 Volentieri Lo prendo subito No non puoi capire che hanno fatto Hanno fatto la barricata là sotto Stanno là sotto Occhio che potrebbero stare Sulla sinistra Hai capito dove Ci sta quella Sorta di baghino Sì Eh Allora Oh ma gli G gli diamo poco Per poter Eh infatti Io infatti già sto a iniziare Aspetta mi faccio lo scildone Però prima Eccoli là infatti Eccoli lì Eccoli lì L'ho visto Affamotti Ok Headshot Uno l'ho distrutto Mi hanno distrutto pure a me Ma uno l'ho distrutto Ok Uno è qua Gire No me sono sbagliato Uno è sulla sinistra Eh sì Uno è sulla sinistra Uno è sulla destra No uno spalano da fuori Altri Eh rip Io sto con 70 di vita Mi sono messo malissimo No no arriva gente da lì Via viaggi da qua Via da qua Eh no io ormai sono rimasto incastrato Provo tipo a morire con onore No Eh no rip Mi hanno fatto Altri due team Altri due team Occhio che ce l'hai sotto Mi sembra di averli visti pure Uno l'ho distrutto Porca miseria Ma dai Eh io ti dovrei andare a prendere la tessera però Eh no però adesso aspetta Cioè non so quanto conviene Faccio una cosa va Andiamo di qua Tanto loro si stanno massacrando Sì così Completo a caso Stava là Ma chi è E' un altro team ancora Un po' oscura come situazione Sì Solo che c'hai 40 Mannale Perché sta proprio là davanti Ci curavo per forza Porca miseria Eccoli lì che saltellano Quest'altro team non ci voleva proprio Sanno che Ma come fanno a sapere che io sono qua Dici t'hanno visto No secondo me sono andati giù Secondo me si stanno andando a far capo Signor Rasco Spero Speriamo 10 secondi 9 Madonna sembrava fatto apposta Eh però aspetta Eh no qua no Al massimo forse sai scogliere Ma ta Ossi di qua Che sfiga Che sfiga Mamma mia è troppo strano Joker Le scarpe Ok Eh stanno qua Sì sono morto Che hanno usato? Death Panther Eccolo Questi sono altri però Eh sì questi sono Quelli che poi mi hanno busciato pure a me da dietro Aspetta Stanno a sparare? Io rimango qui con Sida Ti dovresti acqua per forza Eh sì Il problema è che se mi resti adesso Se fa rumore Probabilmente ci busciano No adesso non te resterò mai No no Potrei provare a scogliere però Boh Eh non lo so Cioè perché qui bene o male la situazione la conosciamo A scogliere non so Non so che troviamo davanti Che troviamo esatto Sai che lasci ma non sai che trovi Ma da dove stanno sparando? Non sai capito Gio di resto Va bene prova Questi stanno sparando Ah stanno sparando lì Ah sì Aspetta però stanno sparare scagnozzi Sì 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 Ti rimango così Facciamo finta che siamo dei scagnozzi Non siamo qua Mi fingono scagnozzi e vinco la partita Sì 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 Per forza Cioè almeno che qualcuno non mi ha una cecchinata Perché comunque sono un bersaglio molto Appedibile Che paura Dici era per te Ho sentito il saluto del cecchino Ah c'è tutta gente Guarda quanta gente c'è Sì 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 Uno è sul tetto considerata la casa grigia Sì Uno più giù No dov'è la safe Rip Forse sai che invece potresti provando Andare a scogliare e restarmi lì Guarda la safe Oh no Altra gente qui Oddio Oh no Madonna Che ansia regà Top 15 intanto Ok ora loro due fightano sicuramente con quelli Guarda quello lì è rimasto camper Guarda sta lì a cecchina Sta lì a scogliare Sì 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 Guarda sicuramente loro fightano tra di loro Eh io vado a scogliere per forza Eh me sa di sì Perché qua non riuscirei mai a restarmi Perché anche se ti resto tanto Eh ci beccano poi O se no guarda Se loro Se queste due cristalli iniziano a fightare Tanto sono tutti presi dal fight E pensano a fightare e te resto Anche Anche perché considera sono almeno 3-4 team Perché due team stanno già Eh sì Due stanno già a fightare Sì 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 Gli altri stanno qua No infatti Infatti Appena entro in azione vengo Cioè vado Vai vai tranquillo Tranquillo Ma le skin cristallo Dove sono andate? Eh sono andate verso destra Io non vorrei che so entrate nel cavo sai No vabbè dai Me ne vado Madonna Provo il resto è matto dai Provo il resto è matto Dai Provo il resto è matto Bella dire Oddio Raga forse con i mi piace Forse con i mi piace Io vado proprio qui sulla sinistra Costegge tutta Tanto questi qui si stanno ammazzando Non penso che si girano a capi Che sta succedendo No no infatti anche perché Voglio di stanna fai da Io gradirei giusto No vabbè niente Bella sta La mia bianca Sì 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 Ho dei shieldini Scappa 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 rasco Te l'ho lanciato Perché Sì Succede Eh ho sentito Qualcosa di molto vicino Ok me ne vado Te l'ho lanciato su uno shieldino Ti l'ho tornato ad un altro Ok è arrivato in festa Eh sì lo so Ok thank you Qui c'è la zipline Che non è male Sì C'è anche un tipo superpotere Di non so chi E storm Eh me lo piglio Tanto Con uno sparabende No un fucile Orribile Però è sempre buono Per te Sì per me sì Per me è ottimo Io considero Sto senza pump eh Ah ok Vabbè io non te lo dico neanche C'è la pistolina verde Come pump Sparano qua davanti Eh sì Eccoli là Ma io salirei verso sinistra Signor Rasco Ok 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 Vengo Oh mio dio Che ansia così Mamma mia Però prima Lo scagnozzo Che si guardava Il combattimento È stato top Sì sì Quella giocata Della giornata Bella Franco Grazie grazie mille Per l'abbonamento Grazie mille Sì è stata La giocata Della giornata Questi hanno finito Di fightare Oddio guarda Eh qui sotto Ci sono resti Di fight Magari c'è Ok oggi Potrebbero stare pure lì Sempre loro Eh sì Dentro il cespuglio Anche Eh ora dovremmo Sciacallare qualche Killina 11 Top 11 Top 11 Dovremmo sciacallare Qualche Killina Ma anche Qualche arma Sì 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 Per forza Ah quattro cocchi Guarda provo ad andare Qua sopra Dove penso già Ci sia qualcuno Però vediamo Se c'è qualche arma Magari per te Oh no ci sono player Uno ha utilizzato Fruit Ah eccolo sì L'altro L'altro è qua davanti Però è da solo eh Eh sì Porca la miseria Ma quanto ci prendono Madonna No ma questo è un fenomeno Tra Ma questo è un No animale L'altro io l'ho laserato Un bel po' Oh mio dio Animale Allora Che faccio Provo a scappare Sì sì Si vattene Perché questo è Troppo troppo forte Calcola non ho movement Non ho nulla Mamma mia Scappa 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 Mamma mia Mamma mia Ma è all'uscita Dici vabbè Faccio dei In fight Così Questi finali Sono infattibili Sì no Troppo difficili Calcola io non c'ho Nemmeno i corpi Dell'assalto di questo C'ho tornato C'ho il tornato Di Tempest La tua missione Sarà Il camperaggio Fino alla fine Mamma mia Però ti troverò il pompa Il pompa che ci salverà Eh sì Ma potenzialmente Mi basterebbe Un pompa E un minimo movement Io non so se Nascondermi qui Fino a No vabbè dai Prova ad andare A quella casa Sì anche perché Anche ti serve qualcosa Eh sì Madonna Quanto sarebbe stato bello Trovare dentro quel cespuglio Cioè sparano verso di là Dentro quel cespuglio Due fermi Che laggavano Con tutto il loot Più bello Che laggavano Ti mandavano Proprio a scatti Esatto Ma no anche Proprio fermi Quei dizzi di prima Avevano il growth Quindi sono velocissimi Sì 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 Manco le briciole L'hanno lasciato Dentro sta casa Eh la situazione La situazione È disperata Bene Eccoli col cecco Ma sai che anche un cecchino Non sarebbe male Per provare tipo a fare Una kill da lontano Il cerco se sei da solo È top Sì sì Riposo qua dentro Riposo per forza qua dentro Adò Comunque io non vorrei dire Eh non è un mio parere Ma qualcuno l'è scritto in chat Dicono che poi Sono avvi a un discreto lato B Ecco Parere della chat Io mi dissocio assolutamente Dalle commento Ma comunque È giusto che venga la luce Questo commento Io non ho mai detto nulla Riguardo Quindi mi dissocio assolutamente Non abbiamo assolutamente parlato Fino a ieri sera Non l'ho provata con tutti i balli Per vedere meglio No 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 Sì Allora Commento Da cui poi subito Dove averlo fatto Mi dissocio L'hanno fatta un po' esagerata Secondo me Sì sì Cioè Si vedono proprio le curve Cioè È troppo esagerata ragazzi Secondo me Oh Ma hanno sparato davanti a te? Sì sì Proprio qua stanno questi Ok Anche se nel film di Batman È allucinante Quindi meritava una Riproduzione fedele Sì 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 Però c'è Vabbè Non è che voglio dire No però Cioè pure Per quanto è coperta Davanti e dietro Cioè Non lo so Cioè Vabbè Dissociamoci nel dubbio Lasciamo stare E beh così Nel film La super sex Quanti punti per qualificarsi Dovete entrare nei migliori 300 Regà Quindi non so Il punteggio Sarà alto Sicuramente intorno Magari a 400 500 Forse anche di più punti Oddio C'è gente qua Mi distorcio Bravi Andate La skin è uscita Ma dovete comprare il pack Partito da tempesta Sì sì lo so Eh so quelli di prima I due che fightano Ma che copertura è messa Quella di Natale Sì Beh ci sta dai Beh sì 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 Per forza In tema Guarda li vermi Dove stanno Ti prego Fai che questo C'è spuglio Sia buono Ne sai di no 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 Dico che non c'è nessuno È quello il problema Che devo notare Rimani nell'acqua Così senza buildare Solo che esce Proprio la testa rossa Bello Bello No se mi salvo così Mi sento No sto pure in safe Ma chiuditi però Chiuditi a sto punto Oddio Eh ma il problema È che così Mi sparano Ma nessuno saprà mai Che sei qua dentro No ovviamente Lo sanno tutti Della serie S Ma non è nessuno Sempre 12 Sì Dai morite Oddio Madonna Madonna Mi sento male Mi sento Esatto Regà Ve lo sto scrivendo Giovanna Come si fa Per la skin di Joker C'è un pacchetto E bisogna comprare Fuori dal gioco di Fortnite Ti sento non nuotare Gigi Davvero Eh dovrei mettermi sotto la cupola Vabbè Vabbè rimango così No raga Non me la rischio Oddio C'è gente che plana Ah perché con Top 5 Con il sound Eh sì Con il cosolo dei sordi Questi stanno a nuotare Mamma mia Regà 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 Qua dovete lasciare like Tutti quanti Guarda Questi come stanno Pure con le rimbalzelle Alla Christian Oddio No No non so Non è vero Ma non è vero Ma io non sto qui dentro Dai ma è incredibile Ma io non sto qui dentro Ma Hanno fatto quello che volevamo Fa noi prima Te l'hanno fatto pure bene Eh sì Bravo No ma c'era uno proprio qui No l'avevo rintato due volte Oddio Se avessi avuto un pompa decente Avrei mirato in testa Ce la potevo fare Caspita come la prima partita Cioè ma come fa Questi hanno l'effetto Quello sonoro Perché come fanno a sapere Che sei lì Eh non lo so Uno forse c'è andato un po' Intuito Ma dove cacchio è finito Il mio cursore Ah ok 306 punti Madonna Sono l'effetto sonore Eh sì sì Ma più che altro perché stavo in acqua Sì sì infatti Vabbè Il galleggiamento Qua roba lì Mannaggia la miseria Oh mio dio Vediamo quanta percentuale abbiamo Male parte mi sa Eh non stiamo messi benissimo Però vabbè Sempre top 7% No ma è assurdo Dai come facciamo Se top 7% Eh boh Però dai ci sta Cioè i primi hanno 629 punti Sì Eh sì Madonna Quindi vuol dire Che per qualificarvi E quindi fare Il prossimo torneo Ah I Eleven Monkey Credo siano loro Sono quarti No Vedo Allora io vedo Nei primi 10 team Due team italiani Perché c'è Freddy con Schmeggy E Itzy con Baffo Però No non mi sembrano Gli Eleven Monkey Io ho Eleven M Lollinoba Ah LOL Lollino Lollino Ma come stanno andando bene Che hanno fatto Si sono dopati Perché Eh no perché Lollino lo conosco LOL Eh sì sono Lollino e il suo moderatore Sì sì vabbè Lu sì 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 Calcola Ah no Mi sei tu non c'eri Inoltre è venuto a giocare anche Ad Among Us Però mi sei tu non c'eri Non lo so Non me lo ricordo LOL Vabbè E comunque per i migliori 300 Sicuramente sopra i 400 punti a sto punto Sì No no scusa Sopra i 350 Perché A 150 Hanno 488 punti Oh mio Dio No no Ma non ce la possiamo fare Non c'è neanche il live Basta try and Banno Ma neanche il Oddio l'olino che non fa in live Un turnover Dì che si è messo proprio sotto Con l'asciugamanino Vabbè Considera che il 300esimo Ha esattamente 470 punti Cioè Prentino adesso 72 Una partita con Tipo 40 kill Noi dobbiamo fare quella partita Esatto Con 40 kill Dobbiamo fare proprio quella partita E ce la possiamo fare tanto no? Ce la possiamo fare tranquillamente Bella Chris Grazie per il supporto Un bacione Easy boys In realtà no Vincenzo Ci sto bene Ma con cosa? Col cappello? Oh mio Cioè anch'io ci sto Io poi calcola L'inverno convivo con lo zuccotto Però così dentro casa Mentre giochi Voi non lo so Però ci sto bene La cosa è perché Mi danno fastidio Le cuffie che mi grattano Sulla testa Mi fanno quei piccoli movimenti Che poi Non lo so E tipo Non so come spiegatemi Si crea tipo Il capello indebolito Che mi fa proprio male Se lo muovo Calcola che Io ho fatto Ieri ho fatto Cioè in realtà è uscito oggi Però ho registrato ieri Il video quello sugli accessori Della play 5 Ho provato le cuffie no? E Ovviamente le cuffie Con tutto il padiglione sopra Eccetera Sono andato a dormire Il mal di testa No non mi arriva La play 5 Lascia perdere Ah ok Mi sono arrivati solo Gli oggettini E quindi? E quindi mi faceva male La testa Con quel coso? Si con quel coso Sono andato a dormire Con il mal di testa Praticamente Eh però anche a me fa sta cosa Forse so ste cuffie Perché quelle che uso Per ereditare Non mi fanno assolutamente niente E questi mi danno proprio fastidio No io ho proprio problemi Con con le cuffie grandi In generale Infatti uso sempre le cuffiette Vai te lo stavo per segnare Io calcolo E' destino Pulito E' destino che scendiamo morti E' destino Si si Mo ce la saranno in volo Ciao ragazzi Ci torniamo domani Con dei prossimi video Sui nostri canali Poca miseria Eh vediamo un po' chi viene A trovarci A Brugherz A Brugherz Sbrumos Ok c'è un altro team Altri due team Altri due team Altri due team Ok perfetto Ok perfetto Uh questo bel Uno è là Due Credo lì si fightano Perché sono usciti troppi player E infatti Stanno sparando a me? A te? Sì Nani? Combat schifoso Ma se c'essi avuto Un po' un po' normale Su il potere di Thor? Topissimo Io c'ho il pepe roncino E il potere di Goot Ok E' lì Mi stai lanciando robe Ti stai lanciando robe? Uh huh Che faccio? Lo pusho? Mmm No Guarda io sto safe adesso Ok Perché ho visto qualcosa Muoversi Potere di Black Panther Ovviamente Non può mai mancare Quello c'è sempre Ok ho trovato Il pompa più forte del gioco Perfetto Oh Ok ho trovato Un altro pompa più forte Del gioco per te Mmm Buono Ehm Qui è l'arma tua No Rip Stanno Ce l'ho qua sotto Arrivo Uh Iron Man Però non il raggio Oddio 20 Il I cosi Quelli che sparano De continuo Ok quanti Ma dove sono gli avversari? E' qua dietro Uno lo ha hitato 20 Allora aspetta Ti sto portando Il pompa più forte Lo lascio qua Tieni Grazie Ti do uno sceldino? Ah top Si Che cacchio ho preso? Eh bisogna andargli a prendere questi però Esatto si Eh Tu dove l'hai lasciata la palla di Doom Che ti lascio Iron Man Che lo sai meglio te Allora La palla di Doom Non credo qua dentro No mi sono sbagliato Porca miseria Sotto forse Oddio no Non c'è idea Qua stai sotto Aspetta Ti intanto Te lascio questo Mi faccio l'icocchi Oddio Te l'avevo pure Eh si Me l'hai pingato Però poi si è tolto il ping Non ho capito perché Uh prelibba pesce Mio fullo Ok eccolo qua Questo che ci possiamo fare Arrivo Io però non ho nulla da Allora aspetta Ho usato il peroncino No l'hanno ucciso da dietro 54 e se n'è andato Lo prendo io E' un hit Dov'è Ma stanno qua Non mi builda con Iron Man Ottanta Non ci credo No un altro Arrivo Eh dai Vabbè ma un'altra ancora Ma che sfiga E' che io A un certo punto Non ho minimamente capito Dove è andato Quello che è scappato E che cazzo è successo Ah ma sono due però Eh si sono due Uno l'ho pure Eh vabbè Tutti qua e tutti Che ce l'hanno con noi Ma che è successo Mannaggia la misera Dai raga ma che è Ma sempre così però Vediamo se riusciamo a trovare Almeno questo qui Che me l'ha scappato No Eh mi sembra che è scappato Provo Perché Aspetto che se ne vanno Tanto Dovrebbero essere A me mi ha sparato Un altro addirittura Perché due erano All'interno del box Sì 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 Quindi si dovrebbero sparare Ok Balletto tattico Shieldini onesti E Devo lasciare qualcosa Facciamo qui va Dov'è la La 6 Ma te mancano Oh mio dio no Rip Vabbè 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 Tanto stanno ancora lì Tanto stanno ancora lì Non avresti fatto in tempo Non ti preoccupare Stanno ancora qua Questi Mi sa che hanno Appena finito De busciasse Sai Eccoli Stanno lì dentro Dove Lì proprio lì Dove hai sparato Stai per fare Un doppio colpo Bella Alex Grazie per l'abbonamento Caro Un bacione Poi ho perso il tempo Con la tua scheda Eh no Vabbè Ma tanto questi stavano ancora qui Quindi Non so se riuscivi Buona Buona sera Buona sera Buona sera Buona sera Buona sera Buona sera Sono venuta a portare un po' di colore Ah Menomale Che bel rossetto Grazie Di colore Non mai oggi rossettino Sto facendo i tiktok Che fate voi? Niente Stiamo cercando di morire Ma No Li devo prendere però così Sì prima o poi Cosa miseria Ok Ce n'è uno sotto Grande signor rasco No è arrivato pure l'altro Oh mio Dio Oh mio Dio Hanno fatto la stessa cosa Maledetti C'è Allucinando Questo Bravissimi Peccato L'avevamo detto Però L'avevamo detto Che fai? Niente Guardo L'avevamo detto Però Scendiamo per morire Scendiamo per morire Abbiamo mantenuto La promessa Abbiamo Dove scendere A brugliere Ez lo sappiamo prima Ez esatto Ciao Gigi Ciao Serena Ciao Paola Dunque un altro team italiano Pure sto Karim E Braizemon Vediamo Che dovrebbe essere tipo Braiz Boh non lo so Un sacco di italiani Stanno arrivassù Però Gli altri li vedo tutti scesi Tranne Tranne Lollino Lol Sì Sì è vero È vero Lolli Ah eccolo Quattordicesimo Lollinoba Sì è lui Ma tipo c'è Il segnale Come se Guarda partita in diretta Eh però no Aspetta Sì sì Lo puoi vedere Ma come fanno Come fanno a farlo Non lo so Io ando a vedere Gli unici Ah ecco pure Lollino sta giocando Andiamo a vedere Lollino Guarda adesso Ma dove trasmettono Ma non lo so Ma che cos'è Bella Francesco Mi sento male Vero Matteo Vero Ecco Ah ma stanno ancora Ah il replay tipo Ti fa vedere Ma no Chi è sto Rifla Ah no Ma è tipo il replay Come funziona Però io ho selezionato Cioè ho selezionato loro Baffo Ma io ho selezionato Lollino Perché mi fa vedere Baffo Ma che se erano nella stessa Xigio Ma erano tutti nella stessa lobby Izzi Tutti nella stessa lobby Gli italiani erano capitati Pure Lollino Tutti nella stessa lobby Tutti gli italiani Perché mi sa che Quelli a tot Sì perché mi sa che Quelli a tot punti Li fa capitare tutti insieme A sto punto Beh a noi ci ha fatto capitare Quei fenomeni oh Eh sì Ma perché noi siamo fenomeni È vero No niente Non me li fa vedere Non sto capendo Rip Ah baffo a me da Vabbè comunque Vi fa trovare Quelli ai vostri punti Magari però voi siete a quei punti Dopo 5 partite E loro dopo una Eh sì Però il problema è che Adesso mancavano 18 minuti Cioè quelli che stanno a 300 punti Dopo di Dopo tutte le partite Stanno insunque male Devi iscriverla su Discord Devi iscriverla su Discord Alex Di entra nel server Discord C'è il link in descrizione E poi lì ti viene spiegato Tutto quello che devi fare Tanto 102 minuti Ecco l'ho trovato Solo se ti fa vedere il replay Eh sì È un po' Un po' problematica La situazione Non è proprio Pulita Vediamo dove Troppavano loro Andavano a Pantano Ah sì 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 Lollino di solito va a Pantano Quando gioca Arena Oppure quando gioca tipo Cocchecco Eeeh Peccato 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 Torneo Vabbè ultra difficile Non sapevamo nemmeno Che si giocavasse in Bastaglia Reale Vabbè che comunque Carina sta cosa Quei superpoteri però Potevano fare solo Superpoteri dai Sì Solo superpoteri Davano proprio la possibilità A tutti Solo superpoteri E la vita della Modalità Knockout Marvel Ah 400 di vita Sì E appena perdevi lo scudo Però non lo potevi più recuperare Capito Ah ok E facevi che tutti camperavano Perché nessuno voleva perdere lo scudo Però allo stesso tempo Chi faceva più kill Faceva più punti Secondo me ci ammazzavamo Beh Sicuramente ci divertivamo Molto di più Però Potevamo venire pure più preparati Per esempio Ci potevamo allenare un po' Io Totalmente all'oscuro di tutto Ah sì 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 No no Ma poi questo era difficile Cioè questo era veramente difficile Sì è vero Questo era veramente difficile E vabbè Signor Raschio Io la ringrazio Ci aggiorniamo Grazie a lei Sì 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 Assolutamente Saluti la signorina Paola Vi auguro una buona serata È appena scappata Come al solito Mi saluti Serena E ci risentiamo presto Allora Ciao signor Rasco Buona serata Ciao 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 Ancora un bacione ragazzuoli A domani, ciao